e riporto i saluti anche della professoressa Giuseppina Barsacchi dell'Accademia Nazionale dei Lincei, si rammarica molto di non essere con noi oggi ma ha impegni privati, speriamo di averla con noi al più presto. Giuseppina Barsacchi in particolare mi ha detto di salutarvi con grande calore e di portare i suoi saluti anche ai vostri studenti, che poi sono l'obiettivo del nostro essere qui e del nostro lavorare tutti i giorni. Per parte mia desidero ringraziare moltissimo la Scuola Normale Superiore che ci ospita e l'Accademia Nazionale dei Lincei che organizza, finanzia e sostiene questo ciclo di incontri. In modo particolare vorrei ringraziare tutto il personale dell'Ufficio Comunicazione della Scuola Normale Superiore che si prodiga sempre per permettere il miglior svolgimento possibile dei nostri incontri e che ci segue, vi segue sempre con grande professionalità e gentilezza. Mi rammarico che anche quest'anno le richieste di iscrizioni siano fatte più dei posti disponibili. me ne è rammarico perché appunto la capienza dell'aula di questa e della sala azzurra dove saremo le prossime volte, quella che è, i posti fisici non si possono moltiplicare, però ricordo a tutti e prego di farlo presente ai colleghi che i nostri incontri vengono video registrati e sono messi in rete sul canale YouTube della Scuola Normale Superiore in genere già il giorno dopo. Ecco, quindi chi volesse rivedere o vedere l'incontri può farlo con un brevissimo ritardo temporale. Allora, io lascerei subito la parola, non vorrei altro tempo, alla professoressa Elena Pistolesi dell'Università di Modena e Reggio Emilia che ci parlerà di leggere la grammatica, un percorso tra regole ed educazione femminista. La lezione sarà seguita dal laboratorio ottenuto dalla professoressa Francesca Faleri della Scuola Secondaria di Primo Grado Mazzini di Livorno, che ascolteremo dopo la pausa caffè che seguirà la lezione della professoressa Pistolesi. Le lascio la parola e vi ringrazio ancora. Mi sentite? Sì, chiaro. Dunque, l'argomento scelto quest'anno per il ciclo di incontri di quest'anno è la grammatica. C'è la grammatica e come leggere, ci sono due incontri che sono collegati tra di loro, leggere una grammatica e poi scrivere una grammatica, è una lezione che sarà tenuta dal professor Tavoni dell'Università di Pisa. Quali argomenti affronteremo? Premessa, affronteremo tutti questi argomenti e vorrei, da parte vostra, di non parlare di grammatica in forma dogmatica, perché proprio è questo il punto. Cioè, se questo è uno spazio di riflessione sulle vostre pratiche quotidiane a scuola, bisogna liberarsi da alcuni dogmi, dogmi che invece ho trovato in molti dei testi che voi usate. Quindi sonderemo un po' l'utilità di questi dogmi se sono effettivamente utili, se non lo sono. Ecco, vorrei che ci fosse uno spazio di riflessione. Dico non dogmatico perché di solito quando si fanno alcune osservazioni sull'insegnamento della grammatica a scuola, la prima obiezione che viene fatta è ma ci sono gli invalsi. Cioè io devo rispondere. Allora, cerchiamo di liberarci per un attimo dagli invalsi e invece di darci un obiettivo che è un po' più alto, che è quello delle finalità ultime, di un obiettivo che non è quello di riempire semplicemente il questionario degli invalsi, ma di riflettere su quello che facciamo. Quindi le mie sono osservazioni, nemmeno proposte, sono osservazioni che vengono dalla lettura di tutta una letteratura sulla pedagogia linguistica che dagli anni 70 in poi è stata estremamente fiorente e che però, guardando poi alle grammatiche che usate a scuola, non ha avuto un grande successo dal punto di vista operativo. Quindi io non ho un punto di vista dogmatico, non saprei darvi una soluzione ai problemi che avete nell'insegnamento, però se ci mettiamo d'accordo sugli scopi dell'insegnamento grammaticale al di là del test invalsi, forse riusciamo a fare un passo avanti tutti insieme. Allora, quali sono gli argomenti che affronteremo? Sono il rapporto tra la grammatica e l'educazione linguistica, sono la stessa cosa, possiamo identificarli, qual è il ruolo che ha la grammatica all'interno di una pedagogia più ampia, pedagogia linguistica più ampia che l'educazione linguistica, che cosa si intende con queste due parole, grammatica ed educazione linguistica. Poi vi riporterò alcune verifiche, sondaggi che ho fatto su tre grammatiche scolastiche, sono tre, probabilmente non sono quelle che voi adottate a scuola, però anche qui quello che interessa è più la riflessione sulla proposta che viene fatta dalle grammatiche che non il titolo in sé e poi vedremo di arrivare ad alcune considerazioni conclusive. Dunque, che cos'è la grammatica? È qualche accezione di grammatica, che cosa intendiamo? Ho preso queste definizioni, una parte delle definizioni che dà il nuovo De Mauro, sapete che si trova online il nuovo De Mauro nel sito internazionale e ho sottolineato alcune parti. L'insieme delle convenzioni e delle norme di scrittura pronuncia, sintasi e morfologia di una lingua o di un dialetto, quindi corrisponde alle parti del discorso, corrisponde al tipo dell'analisi che si fa, morfologia, sintasi eccetera. È lo studio sistematico di una lingua e delle sue norme, è l'insegnamento di tale disciplina a scuola, è il libro di testo e poi mi interessa quest'ultima accezione, capacità di saper parlare e scrivere correttamente. Questa è un'altra delle accezioni possibili. Che cosa ho fatto? Ho cercato grazie a due colleghi che sono Francesca Faleri che poi farà l'esercitazione e Frida Farnetti, voi ve la ricorderete forse l'anno scorso si era collegata da Udine, una collega della scuola media. Allora ho chiesto loro di fare un piccolo sondaggio tra gli studenti e chiedere in una prima media, in una terza media che cos'è la grammatica secondo loro e a che cosa serve. Quindi tenete presenti queste accezioni. Gli alunni della prima media, che cosa hanno detto? Questi sono di Livorno. La grammatica è lo studio delle regole e delle forme sull'italiano o altre lingue. Poi la grammatica è una materia che insegna a parlare bene e a riconoscere le varie parti di una frase, sapere descrivere, riconoscere quindi verbi, aggettivi, nomi, parole diverse con regole diverse. È bellissimo perché queste definizioni rispondono a più definizioni, ci ammettono insieme più definizioni che abbiamo visto nel De Mauro. La grammatica è l'insieme dell'ortografia e i verbi aggettivi che servono a saper scrivere un tema di italiano correttamente. Quindi saper leggere e scrivere, cioè saper parlare e scrivere correttamente. È una materia scolastica molto importante, serve per scrivere frasi di senso compiuto, poi serve per parlare correttamente una lingua senza fare errori. Gli altri si ripetono un po'. Interessante l'ultimo, l'ultima osservazione. La grammatica è una materia di italiano. Secondo me non serve perché la lingua si utilizza solo in Italia, non come l'inglese. È bellissimo, quindi cioè è inutile perché insomma alla fine perché perdere tanto tempo a studiare l'italiano quando in realtà... Allora in terza media, gli alunni di terza media dando delle definizioni simili. Però qui la domanda era diversa, cioè Frida Farnetti ha chiesto ma dovreste spiegare, cioè per dare un contesto, a un bambino delle scuole elementari a che cosa serve la grammatica? Che cos'è e a che cosa serve? Quindi le risposte risentono. Dirò la verità, la grammatica è noiosa, però serve anche quando sarai uscito dalla scuola. È importante per molti motivi, come per esempio sapersi esprimere. E' chiaro che alla tua età non te ne accorgi, qui si rivolge direttamente al bambino. Anche io la consideravo inutile. Ora ti faccio un esempio. Se tu dirai a un tuo amico, ehi guarda quell'elefante bello è, la frase è sbagliata. E il tuo amico faticherà a capire. Quindi continua a studiare e poi sarà felice di quello che farai. È una pubblicità perfetta, no? Dopodiché ci sono definizioni della grammatica, appunto è una materia dove si studia la lingua italiana, ad esempio l'analisi logica grammaticale del periodo, quindi si fa riferimento a quello che si trova nei libri. Serve a parlare e scrivere correttamente. Questo ricorre più volte, parlare e scrivere correttamente. L'ultima, anche qui interessante, l'ultima osservazione, direi che è molto importante per imparare un lessico differente, quindi c'è un'attenzione, ed è molto utile per imparare le lingue straniere. Questa è un'osservazione interessante e anche molto corretta, perché poi la grammatica, diciamo, per ora la lasciamo dell'italiano, diventa un po' il punto di riferimento, è la linguistica generale da cui si attingono poi, si imparano le regole e si possono applicare le regole alle altre lingue. Quindi sono molto interessanti. Allora vorrei sottolineare questo aspetto, cioè mettere insieme gli elementi di studio della grammatica, che si trovano, quindi, anche con la partizione con cui si trovano nelle grammatiche scolastiche, e parlare e scrivere correttamente. Noi spesso diamo per scontato questa unità, cioè la grammatica serve per parlare ed esprimersi correttamente. Non è di questa opinione, poi la sonderemo in vario modo, Adriano Colombo, che io citerò più volte durante questa lezione, il quale, diciamo, fa una proposta, poi troverete in bibliografia i testi che cito in gran parte, sono poi disponibili online, quindi al solito non dovete comprarli, ma semplicemente cercarli in rete e scaricarli. L'idea di Colombo è che non si possa fare una equazione diretta tra la regola, l'aver appreso la regola, lo studio della grammatica, o aver capito, diciamo, la teoria che sta dietro, parlo di teoria in senso molto generico, senza fare riferimento a teorie linguistiche. Dal comprendere al fare c'è il mare in mezzo, non è la stessa cosa. Di questo bisogna tenere conto. Quindi quando diciamo la grammatica serve a parlare e scrivere bene, stiamo facendo un'operazione che probabilmente è successiva. Stiamo facendo, e Francesca Faleri poi nell'esercitazione vi farà vedere come si può usare la grammatica, quello che si fa nelle ore di grammatica per, per esempio, correggere i testi. Però prima di questo c'è un'attenzione, questa è la parte su cui poi Colombo richiama l'attenzione, alla riflessione sulla lingua. La riflessione sulla lingua non comporta di per sé già una abilità che poi è spendibile nel saper leggere e scrivere. Questo, diciamo, per quanto riguarda la grammatica. Vi ho dato delle accezioni possibili. Adesso passiamo a che cos'è l'educazione linguistica, che cosa si intende per educazione linguistica. Allora, voi sapete che la grammatica è stata il centro di una critica radicale a partire dalle famose dieci tesi del 1975, di cui avrete sentito sicuramente parlare, e che si trovano in rete, quindi potete consultarlo. Queste dieci tesi sono importanti, non soltanto perché hanno rivoluzionato l'idea e l'approccio rispetto alla lingua, quindi hanno fondato una nuova pedagogia linguistica, ma poi sono state alla base anche dei programmi scolastici degli anni 70 in poi, quindi non si possono trascurare, hanno lasciato traccia profonda. Che cosa diceva la tesi settima delle dieci tesi? Diceva che il tipo di grammatica che si faceva a scuola non solo era inutile, ma era anche nociva e dannosa. Nociva e dannosa perché usava, faceva riferimento a dei concetti e ne chiedeva l'applicazione di concetti assolutamente o obsoleti o inutili. Questo non significa e non significava che la grammatica dovesse essere eliminata dalla scuola, come qualcuno ha inteso, cioè sono nate poi delle grammatiche che non usavano la terminologia tradizionale, però facevano riferimento a una coerenza nel sistema lingua. Questo è quello che è avvenuto dopo, poi in parte l'insegnamento grammaticale è stato recuperato oggi, non è stato eliminato di fatto, anzi, il problema è proprio il fatto che non è cambiato forse abbastanza. Questo è il punto rispetto a queste indicazioni. Che cosa si proponeva? Di inserire la grammatica all'interno di un percorso più ampio, di un orizzonte più ampio, che è quello dell'educazione linguistica, che fa perno soprattutto sulla riflessione sulla lingua. Che cosa significa riflettere sulla lingua? Significa, diciamo, esercitare, sviluppare degli strumenti che consentano la riflessione su come la lingua funziona, una riflessione analitica, critica, una riflessione di carattere induttivo, cioè partire dalla lingua per derivare le regole. Quello che si è sempre fatto a scuola, si faceva, si parte dalla definizione, ne vedremo più di una, si parte dalla definizione e poi si arriva a identificare il fenomeno. Spesso questo processo non coincide con una riflessione. Riflettere significa trovare le forme di un meccanismo, di un meccanismo del funzionamento, quindi fare anche un'analisi critica. Vedete, ho sottolineato qui le parole osservazione, analisi, queste sono le parole chiave della nuova pedagogia linguistica. In seguito si arriva allo sviluppo delle abilità, cioè lo sviluppo delle abilità è qualcosa che viene nel tempo e viene alla fine di un curriculum completo, che parte però prima da una riflessione, riflessione che abbiamo detto non dà immediatamente dei risultati, non migliora immediatamente le abilità, non interviene immediatamente. Qui ho messo una citazione da Matteo Viale, che si trova all'interno di un dossier della Treccani, che trovate online, che parla proprio dell'anniversario delle dieci tesi. A 1975-2015 trovate vari interventi sul tema e quindi potete utilmente leggerlo. Allora, quali domande ci faremo? Qual è allora lo scopo della grammatica? Quale dovrebbe essere? In parte vi ho già anticipato alcune linee. Scrivere e parlare bene o esercitare una riflessione sulla lingua, tutte e due, viste però in una prospettiva, diciamo così, scalare. In quale modo l'insegnamento della grammatica aiuta la riflessione, l'analisi, lo sviluppo di un metodo induttivo e critico? E soprattutto, la domanda cruciale, le grammatiche in uso sono adeguate per raggiungere questi scopi? Cioè ci danno effettivamente gli strumenti per un sapere critico? Allora, ho preso in esame alcune grammatiche, ho interrogato queste grammatiche, non so se, diciamo, le conoscete. Allora, quella di Marcello Sensini, perché poi l'editoria scolastica è terribile, avete ogni anno nuove edizioni con rimaneggiamenti, però poi i concetti rimangono sempre gli stessi. Al limite c'è una sintesi, si aggiunge una parte e così via. Allora, la prima grammatica che ho preso in esame è quella di Sabatini, conosco la mia lingua, l'italiano dalla grammatica valenziale e la pratica dei testi. Non so se qualcuno di voi l'ha adottata a scuola. Nessuno, perfetto. Poi, e vedremo, no, questo è un approccio nuovo, è un approccio diverso da quello considerato tradizionale, vedremo come può funzionare, cioè lo interrogheremo sugli stessi temi su cui interroghiamo le altre. Poi Marcello Sensini, in chiaro, dalle conoscenze alla competenza linguistica. Questo è composto di, sono tutti in più volumi, osserviamo che sono dei testi estremamente estesi, in tre, quattro volumi. Allora, di Sensini ho guardato soltanto fonologia, lessico, morfologia, sintassi, perché non avevo il secondo volume. Mentre ho guardato tutto Zordan, Rosetta Zordan, con tutti i volumi. Il primo, fonologia, ortografia, morfologia, sintassi. Poi comunicazione, lessico, struttura. I quaderni, e poi c'è anche il quaderno per gli insegnanti. Ecco qui il corpus di riferimento. Allora, queste... perché tanti volumi? Perché tanti volumi per la grammatica? Lo zaino. Allora, spezzatelo per parti. In realtà, le parti hanno un senso, cioè... No, no, hanno un senso perché di solito, a parte il primo volume, gli altri non servono a niente. Eh, diciamolo subito. Lo dico... Eh? Ecco, perché lei lo usa. Benissimo. Però molti dicono che adottano soltanto il primo volume, perché poi il resto si fa nella parte sui testi, eccetera. A che cosa serve la ripartizione? In parte risponde a quel concetto di educazione linguistica allargato, quindi rispetto alla grammatica, cioè risponde alle abilità che riguardano la testualità, si danno nozioni sul linguaggio, si trova nel volume, non nel volume A, diciamo, ma negli altri si trovano accenni alle varietà di lingua, si trovano... Ci sono delle parti di storia della lingua addirittura, e si trova il lessico, tutta la parte sul lessico è sviluppata da un'altra parte. Questo produce, poi ve lo dirò alla fine del... Però vi anticipo il fatto che in realtà, questo non dipende tanto dal numero dei volumi, non c'è comunicazione tra un volume e l'altro, spesso non c'è tra un argomento e l'altro. Quindi, ad esempio, affrontare la morfologia nominale, partendo dai nomi primitivi e derivati, e poi ritrovarsi la derivazione nell'ultimo volume, in cento pagine, cioè, oppure parlare delle varietà linguistiche, solo in un volume come se fosse una questione isolata, ma senza mai fare cenno alle varietà della lingua. Nel primo volume, che è quello sulla grammatica, fonologia, scusate, ma la fonologia è fondamentale, fare riferimento alle varietà di lingua. Invece no, fonologia è quella ufficiale, quella radiofonica degli anni 50, no? Metti l'accento, no? Distingui l'omografo. Fortunati voi che insegnate in Toscana, ma uscite dalla Toscana e tutto questo diventa un lavoro impossibile. Allora, si affronta forse il tema delle vocali aperte e chiuse in un volume separato. Cioè, il ragazzo intanto imparerà, no? Dirà, questa che pronuncia è? Io non sento la chiusura, l'apertura vocalica. Perché gli viene spiegato tre volumi dopo, forse, forse, nell'ambito delle varietà. Ecco, questo è un difetto che ho trovato in queste grammatiche, no? Cioè, almeno fornire punti di osservazione sulla lingua che si parla, no? Se non si fa nella fonologia, non vedo dove si possa fare, è molto utile, anche per affrontare poi problemi ortografici che possono essere specifici a seconda della provenienza dell'italiano cosiddetto regionale. Allora, quindi questo è già un quadro. Ecco, questa moltiplicazione di volumi nasce un po' come una risposta a un'educazione linguistica completa. Quindi non più solo la grammatica, ma l'educazione linguistica. Allora, aggiungo volumi in una forma additiva che però non mette in comunicazione le diverse parti. Partiamo dalla parte più contestata dell'analisi logica tradizionale. Cioè, la batteria di complementi indiretti dinanzi ai quali che Adriano Colombo definisce ciarpame, cioè ciarpame, e che si potrebbero tranquillamente eliminare. Perché eliminare? Perché si potrebbero mantenere il concetto di soggetto, poi lo vedremo come viene affrontato le grammatiche, quello di predicato, l'oggetto, distinguere tra diretto e indiretto e poi basta. E invece le grammatiche hanno pagine e pagine, si arrampicano sugli specchi per dare definizioni che sono evidentemente delle definizioni di natura semantica, che con la grammatica e con una visione strutturale, cioè che cosa, quando parlo di struttura, parlo di riflessione sulla lingua. Che senso ha individuare un complemento di privazione da una frase sono privo di idee, privo di complemento di privazione, sono ricco di idee, complemento di abbondanza e così via. Quale tipo di riflessione sulla lingua può dare una definizione di questo genere? Allora, quanto tempo spendete a spiegare i complementi? Allora, Freda Farnetti ha fatto un esperimento che in realtà aveva già fatto un linguista, ma l'ha fatto senza saperlo, con gli studenti che esasperati dalla quantità di complementi si sono inventati dei complementi. Hanno detto ma perché non esiste allora? Se esiste il prezzo, estensione, misura, peso, eccetera, perché non esiste il complemento di puzza? Questo ha avuto, ha detto Freda, un enorme successo, ci hanno discusso a lungo, dovrebbe esistere. E che cosa hanno fatto? Hanno dato una definizione del complemento di puzza. Indica l'odore spiacevole o la puzza del soggetto in questione, è bellissimo che usano poi anche le frasi tipiche della gramma. Introdotto da di come quanto, puzza come un cane, il vostro odore è sgradevole, quanto il pesce marcio, puzziamo di sudore. Ah, questo è il complemento di puzza. Altro, e questo è interessante, il complemento di gioco. Questo sarebbe molto utile, per esempio, perché la quantità di giochi, definizione, indica il tipo di gioco a cui stanno giocando uno o più persone o animali. Anche qui vi ho sottolineato, perché c'è una tassonomia. Domande, a che cosa gioca, con che gioca, preposizioni, a e con. Giorgio gioca a Twister con i suoi amici, Giorgio gioca con i videogiochi. Allora, questo complemento di gioco sarebbe stato estremamente utile per, per esempio, dirimere una questione che è scoppiata in un forum di Repubblica. Voi non so se frequentate il forum di Repubblica, i dubbi sull'italiano con il linguista che risponde. Il linguista che risponde in realtà è un team di linguisti che rispondono alle domande spesso dei docenti o dei ragazzi. E quello dei complementi e sui complementi ci sono sempre domande. Perché? Cos'è? No? Lo spavento di fronte. Questo cos'è? E allora si comincia tutto un ragionamento per cui si potrebbe assimilare a perché tolto dal suo contesto, si potrebbe associare e quando quest'operazione diventa impossibile si ricorre al figurato. Il figurato è bellissimo perché il figurato ti dà la via d'uscita ma ci chiediamo a che cosa serve tutto ciò. Cioè se aveva poteva avere un senso per la traduzione in latino perché l'analisi logica nasce con questa finalità esercitata sulla lingua e poi ogni volta che ci si trova davanti un esempio reale che non sia l'esempio della grammatica cioè quello che non pone problemi poi appena si esce dalla grammatica i problemi nascono e allora che cosa succede? Che nel forum di Repubblica c'è tutta una polemica su la distinzione tra giocare a pallone e giocare a calcio. Qui il complemento di gioco ci avrebbe risolto il problema perché dopo tutta una lunga polemica il linguista poveretto il linguista che evidentemente sa bene che i complementi non esistono in natura sono idee platoniche da cui dobbiamo dare un'etichetta che cosa dice? Caro signor stremato da questa discussione continua a pensare che a calcio e a pallone negli esempi indicati non rivestano in pieno la funzione grammaticale convenzionalmente associata ai complementi di modo o di mezzo pur condividendone alcune caratteristiche semantiche perché la definizione è di natura semantica quando dico privazione perché faccio attenzione al significato della frase e neppure mi convince la sua idea di voler attribuire all'uno il valore modale e all'altro quello strumentale quindi è tutta una già che mi pare evidente che funzionino presso che nello stesso modo parlerei piuttosto come intendevo fare nel commento che ha innescato le sue critiche di valore modale e strumentale d'accordo? Così a seconda dei casi potranno prevalere sfumature legate al valore modale piuttosto che a quello strumentale ma si tratta appunto di sfumature cioè di che cosa stiamo discutendo cioè pensate ai ragazzi che devono o applicare delle tautologie oppure avviare una serie di processi che riconducano a categorie predefinite che sembra esistano in natura cioè il complemento di limitazione esiste in natura è qualcosa che esiste nella realtà questa è filosofia non è grammatica d'accordo? Questo è il punto allora vediamo sempre il nostro linguista questo è una dimostrazione della diciamo di come l'analisi logica sia del tutto illogica no? Buon pomeriggio nella frase difendersi dalla pioggia dalla pioggia che complemento è? E io ve lo chiedo perché poi vediamo la risposta del linguista che complemento è dalla pioggia? Di difesa come sì o atmosferico perché ci fosse neve vento eccetera il linguista poveretto dice può essere assomiglato a un complemento di svantaggio con sfumature limitative chiaramente poveretto ma pensate ragazzi di fronte a questa cosa cioè io non sto pensando al linguista che cerca di essere sicuro di quello che dice più o meno perché ci si aspetta ci si aspetta che lo sappia ma come non sa difendere qualcuno vuol dire operare a suo favore difendersi da qualcuno da qualcosa vuol dire operare a suo sfavore quindi vedete il tipo di ragionamento che si deve fare per arrivare e naturalmente noi possiamo anche dire un complemento di allontanamento figurato o anzi nemmeno figurato no? Per esempio cioè noi potremmo dire ma a che cosa serve? Non lo so altra domanda Luca è guariso dal mal di gola in questa frase sapete dirmi dal mal di gola che complemento eh? Anche qui eh? Questo è ovvio ma perché l'analisi logica è fatta apposta per le lingue morte ma se io la esercito in assoluto sull'italiano esatto però ci verrebbe in aiuto perché ragionano così forse sarebbe cioè riguardo a relativamente alla vera un mal di gola no? Per cui voglio dire poi perché lei pensa alla traduzione cioè effettivamente un latinista immediatamente che cosa fa? Lo traduco in latino che cos'è? È di allontanamento vediamo il linguista è un complemento di separazione qui già però possiamo valutare ecco se ci appoggiamo alla traduzione in latino o alla traduzione in greco troviamo perché? Perché dobbiamo c'è la costrizione della traduzione d'accordo? Dobbiamo trovare in quale modo in lingue che hanno i casi si traducono però questo esercizio che aveva un senso e nasce appositamente per il latino cioè nasce non solo per il latino ma il presupposto dell'analisi logica che nasce alla fine del seicento è questa le lingue si presentano in forme diverse tra di loro però ci sono degli universali che rendono comuni a tutte le lingue degli concetti che si possono tradurre l'uno nell'altro nelle lingue naturali e quindi è lì che è nell'universalità delle idee che si hanno i complementi quando andiamo a vedere i complementi di tempo sono le categorie aristoteliche cioè non è che stiamo parlando quindi questa è filosofia allora portiamola ad oggi sono strumenti datati anche dal punto di vista filosofico sono operativi ci servono a effettivamente sollecitare quella riflessione sulla lingua che dovrebbe essere lo scopo dell'insegnamento grammaticale mantenere alcuni concetti può essere utile lo vedremo nel caso del soggetto definito variamente su come si identifica il soggetto bisogna dare più definizioni perché una sola non basta non è sufficiente ad identificarlo quindi dobbiamo ricorrere un po' a una specie di eclettismo tra morfologia logica e così via però tutto il resto si potrebbe utilmente eliminare cioè non ha senso c'è la possibilità di confusione ad esempio tra una frase con vado al cinema con Anna o pianto un chiodo con il martello c'è la possibilità che un alunno confonda il martello con Anna solo perché sono inseriti sono dal con sì cioè io posso anche il fatto di dire che uno è un complemento di compagnia e l'altro di mezzo è utile per capire la differenza oppure uno la capisce intuitivo fanno fatica a distinguere un con con una persona o con una cosa ah ma voi state ragionando in termini di analisi logica cioè la fatica qual è? quella di distinguere scopo fine dal mezzo ma se io lo tolgo questa parte la difficoltà non c'è più cioè dov'è la difficoltà? la difficoltà sta nell'imporre di applicare queste categorie attenzione la difficoltà che lei evidenzia è quella di fargli applicare l'analisi logica non la comprensione del fatto che andare al cinema con Anna che Anna è una persona con cui vada cioè serve a sviluppare intendo che le generazioni che c'è abbiano grossi difficoltà a livello strato concituale e banalmente filosofico secondo me qualcosa sta succedendo nelle strutture del pensiero è ovvio se si usano queste categorie però non le aiutiamo a riflettere cioè attenzione perché qui stiamo parlando proprio di questo cioè la riflessione vuol dire sviluppare quella capacità di analisi e quella logica che non è l'analisi logica attenzione che è un'altra cosa che questo tipo di operazioni sulla lingua non aiuta secondo me non aiuta per niente quando diciamo gli studenti hanno difficoltà a studiare la grammatica che cosa vuol dire vuol dire che hanno difficoltà ad applicare quei concetti predefiniti per cui esiste per cui siamo in difficoltà anche noi quando ci troviamo di fronte a cose ignocia o una frase vera per esempio applicare l'analisi logica quante volte vi sarà venuto un dubbio oddio questo che cos'è allora vogliamo ma il problema non è vostro vogliamo imporre anche ai ragazzi questo tipo di dubbio e dargli la certezza quando poi noi stessi abbiamo dei dubbi vogliamo dire che è un sistema che serve a niente questo è il punto si può essere radicali o no se pensate che riconoscere un complemento di privazione di estensione di peso di misura tutto ciò che è tautologico veramente tautologico aiuti e sviluppi le capacità logiche di uno studente benissimo fatelo fatelo io penso che non sia così prego non italofono ecco lì mi diventa utile magari sapere come usare o meno una preposizione o ecco allo spiega col complemento no assolutamente no io no io sono uscita da questa cosa proprio attraverso le due cioè io sono passata questo è stato un modo di cambiare completamente per le scuole ma non esiste l'analisi logica cioè una cosa è la funzionalità cioè gli inglesi non sanno parlare inglese perché non fanno l'analisi logica oppure lo parlano lo stesso e evitano di identificare il complemento di estensione cioè riflettiamo sul fatto che c'è una tradizione una tradizione scolastica che è tutta italiana se uno ritiene che ci sia un'utilità la pratichi però poi non possiamo dire ragazzi siete non avete capacità logiche perché non sapete identificare il complemento no questo non si può dire perché non siamo in grado nemmeno noi cioè noi abbiamo una serie precostituita di etichette e concetti a cui dobbiamo ricondurre la realtà linguistica guardate che è un'operazione assurda è a prioristica questa cioè stiamo facendo un'operazione che non aiuta lo sviluppo della riflessione prego ma anche per il latino si fa fare questa analisi illogica l'analisi illogica non solo bombarda i ragazzi che poi confrontano la ragazza con il martello ma anche nel latino e nel greco i ragazzi che si mettono a dire tante cose inutili sul testo poi non capiscono non sanno tradurre quindi per esperienza didattica e ho insegnato a bienio scuola secondaria e triennio so che non fare questa analisi illogica non solo aiuta per l'italiano ma anche aiuta uccide le lingue le lingue morte quel discorso di prima non lo contivido anzi sono lingue uccise da questo allontanamento dalla lingua noi stiamo discutendo e ancora applicando un modello di grammatica che è secentesco e questa è la verità allora possiamo effettivamente non pensare anche al nostro approccio al nostro approccio verso le lingue che è maturato negli ultimi secoli cioè qui siamo in fase totalmente prescientifica riflettiamo su questo però perché buttare via tanto tempo a scuola invece di lavorare o sul testo sulla comprensione sul lessico che è fondamentale lo riconoscono anche i ragazzi e buttare via così tanto tempo per definire tutti questi complementi ma qual è il vantaggio le funzioni in una descrizione certo scusate allora io vabbè nella lunga vita di precariato penso insomma un po' come tutto insegnato allo medio insegnato latino insegnato greco ora sono approvata a un al superiore dove all'IT dove lì il problema non si pone noi non abbiamo proprio il libro di grammatica per cui vabbè ci arrangiamo in qualche modo poi lì affronteremo io sono d'accordissimo col collega che ha parlato a proposito del latino tra l'altro avendo fatto la SIS e vi ricordo di aver seguito delle lezioni bellissime dei professori del dipartimento di latino è morto questo scardinamento su cui io sono d'accordissimo questo dovrebbe essere in verticale io sono d'accordo con lei ho fatto non con me con tutta una letteratura è latino e ora sono figli facendo liceo classico quindi libri di latino ne conosco penso un po' tutti però quelli cosa propongo classica struttura complementi ro d'accordo per cui io sono il cambiamento lo scardinamento dovrebbe avvenire in maniera verticale e se io faccio questo tipo di lavoro alle medie che va benissimo perché alle medie mi piaceva moltissimo poi si fa le superiori e il libro di latino mi dice abbrati il complemento di eliminazione e questi ragazzi però poi questi complementi che sono d'accordo con la professoressa che a volte dice oddio cos'è questo cioè famoso complemento di puzza perché però allora dico dovrebbe essere uno stravolgimento che arriva anche ai libri delle superiori perché se io lo faccio alle medie benissimo però i ragazzi che mi scelgono latino si trovano complementi all'app allora forse cercare di inglobare i complementi in delle macro aree per cui faccio un esempio tutti quelli che esprimono un allontanamento e allora magari che ne so li usano l'ablativo non voglio fare saccente regge tutti quei complementi che vanno verso a limite questa potrebbe essere però vi assicuro che nei libri del BN di latino c'è complemento di e quindi chiedo come si potrebbe risolvere questa cosa io non lo ovviamente questo è un dibattito il punto qual è grazie scusate in latino li lasciamo per il latino li arginiamo intanto sono tutti i manuali delle scuole medie tranne che nei sabatini perché sceglie un modello valenziale che elimina e fa pulizia di tutto fa pulizia di tutta questa parte dei complementi ci sono dei concetti e qui aspetta ai latinisti aspetta diciamo ai linguisti dare delle indicazioni su come poi usare nuovi modelli descrittivi anche per il latino per esempio un concetto che sarebbe estremamente utile che io non ho trovato in nessuna delle grammatiche che ho visto è quello di sintagma il fatto di non dare una definizione di sintagma intanto semplificherebbe notevolmente tutta la questione dei complementi e delle funzioni intorno al verbo sarebbe utilmente applicabile anche in latino anzi sarebbe sì cioè si parla di soluzione usando l'elemento del sintagma è curioso perché nella grammatica di Sabatini ho trovato sintagma una volta da sola non so dove sia perché ho consultato la grammatica di Sabatini in formato digitale e la ricerca non è proprio il software di ricerca non è buonissimo quindi ho visto che in tutta la grammatica una volta si intangua non so che cosa serva una volta però poi gli altri non lo usano quindi si può investire su un rinnovamento quello che ho detto non è che si lascia per il latino quello che volevo dire prima forse non sono stata chiara è che questo l'analisi logica nasce per la traduzione in latino cioè questa è la sua nasce la sua origine è questa allora quando noi la applichiamo senza questa finalità a cui è servito per molto tempo perché fa parte della tradizione si inizia con l'analisi logica e poi si fa si comincia a studiare la grammatica latina nelle grammatiche dell'ottocento era l'analisi logica si diceva già che c'erano troppi complementi che andavano ridotti una delle classi avete visto c'è la prima ordine di complementi il secondo quello diretto quello diretto il secondo gruppo di complementi come si definiva definiamolo come vocativo accusativo cioè il nome dei gruppi di complementi erano direttamente in latino e c'è traccia di questo anche nelle grammatiche del complemento vocativo è chiaro c'è un complemento vocativo cioè questi sono residui del latino d'accordo allora ci sono gli strumenti per per migliorare su questi su tutto questo si interroga diciamo l'educazione linguistica da ormai più di 30 anni quindi il fatto è che però poi tutto questo lavoro non trova un risultato nelle grammatiche qui ritorno al dogmatismo perché non si sa bene chi ispiri questo dogmatismo alcuni dicono se non fornisco agli insegnanti una grammatica di tipo tradizionale gli insegnanti non la adottano e questa è la logica delle case editrici l'insegnante dice ho questi strumenti a disposizione non ho corsi di aggiornamento ad esempio sufficienti per perché poi bisogna è vero si sostituisce uno strumento descrittivo ma va sostituito con qualcosa in rapporto a uno scopo che deve essere chiaro lo scopo non può essere quello di riconoscere appunto i complementi o di dare una definizione del nome che non dice niente questo è il punto qual è lo scopo che ci dovrebbe che dovrebbe ispirarci per l'educazione linguistica allora è bello questo dibattito andiamo avanti dunque domande conclusive sull'analisi logica quindi è utile insistere tanto sui complimenti per individuare categorie tautologiche funzionali della traduzione in latino come dicevamo quale vantaggio in termini di riflessione sulla lingua si trae da ricorsa di etichette infondate cioè o fondate diciamo filosoficamente fondate che cosa salvare dell'analisi logica poi lo vedremo ma soprattutto vi rinvio a un articolo di Maria Loduca che risale che trovate poi nella nella bibliografia che proprio che cosa si salva si può salvare l'analisi logica cioè non tutto da buttare via ma appunto cerchiamo di prendere quello che non genera confusione o che pure ci conduce a fare delle operazioni inutili altro punto andiamo un po' per sondaggi andiamo per sondaggi all'interno di queste grammatiche su alcuni argomenti la punteggiatura la punteggiatura nel sensini si trova come poi in tutte le grammatiche scolastiche viene associata alla parte di fonologia cioè noi troviamo questa collocazione è estremamente pertinente rispetto alla definizione che si dà della punteggiatura la punteggiatura è l'insieme di segni convenzionali che servono a regolare o a scandire nella pagina scritta il flusso delle parole e della frase in modo da riprodurre il più fedelmente possibile le intonazioni espressive del parlato e è chiaro che allora va nel capitolo della fonologia se io do questa definizione cioè si tratta soltanto di uno strumento che riproduce imperfettamente le pause del parlato o le espressioni del parlato da qui tutti i problemi che voi poi conoscete questa definizione è sbagliata e non solo produce una proliferazione di attenti attenzione per non sbagliare Sensini due note per non sbagliare dopo aver dato questa definizione la virgola non deve mai essere usata per separare quegli elementi della frase che dal punto di vista logico ci sarebbe molto a discutere su cosa vuol dire sono legati tra loro perciò non si deve mai mettere tra soggetto e verbo questa notazione è indispensabile perché si è data una definizione sbagliata uno due i due punti non si devono usare tra il predicato verbale e il suo complemento oggetto perché un'altra volta cioè che cosa si deve fare in questi casi una definizione sbagliata produce queste aggiunta di normativa in Sensini la punteggiatura si trova nel primo capitolo appunto nella fonologia in Zordane si trova con l'ortografia viene messo insieme alla parte di ortografia in Sensini la cosa dovrebbe essere più semplice perché perché lavorando sulle valenze quando ho definito diciamo il nucleo della frase il nucleo con i suoi il verbo cioè i suoi argomenti essenziali posso tranquillamente dire che la punteggiatura non deve stare all'interno di questa struttura è facilissimo cioè ci semplifica molto il lavoro l'elemento valenziale poi si può diciamo articolare in altre forme invece Samatini secondo me sfrutta molto male questa possibilità questa potenzialità della grammatica delle valenze perché anticipa cioè tutta la parte sulla punteggiatura nel secondo volume all'inizio del secondo volume però viene anticipata in parte nella sezione della sintassi dove la punteggiatura dovrebbe stare cioè la punteggiatura si dovrebbe affrontare insieme alla sintassi chiaramente quindi ci sono alcune anticipazioni nelle unità relative alla sintassi e degli esempi come vi faccio degli esempi di alcuni accenni che si fanno alla punteggiatura nelle unità precedenti a quella poi c'è la frase abbastanza breve fa un esempio a dei circostanti molto leggeri non ha bisogno di virgole al suo interno non possiamo mettercele per forza oh strano allora devo aver premuto qualcosa ah il cavo che è lì è successo vi faccio una sintesi della questione ci sono appunto accenni generici durante la trattazione della prima parte qui sarebbe un errore che si cerca di affrontare in una forma così molto amichevole il tema della punteggiatura però non si dice questa cosa essenziale che vi ho detto cioè non si divide il verbo da suoi argomenti sostanzialmente poi si può introdurre in un'altra forma questa è una definizione che potrebbe essere immediatamente usata nel caso della punteggiatura ma che non viene sufficientemente sfruttata bisogna ripartire da capo allora il punto è che la punteggiatura dovrebbe andare dovrebbe essere trattata appunto con con la sintassi non si capisce perché venga in sé o meglio si capisce attraverso la definizione che abbiamo detto sulla fonetica eccetera eccolo qua sì sì ci siamo ecco qua queste sono citazioni da Sabatini prima che affronti poi il tema nella parte sulla punteggiatura interessante la seconda frase una prima conclusione da trarre a questo punto è la seguente per apprendere bene l'uso della punteggiatura ci guida in parte l'orecchio ma prima di tutto è molto importante conoscere la struttura della frase ed essere in grado di individuare i segmenti che la compongono nei rapporti tra questi segmenti cioè c'è tutto un rinvio che mi sembra abbastanza affannoso tanto più che vi riporto invece una cosa che ho trovato in un articolo di un altro linguista che si chiama Pallotti che cosa dice la distinzione tra fase nucleare e circostanziali stiamo parlando della grammatica delle valenze è utile se non altro per comprendere che la virgola non può staccare un predicato dai suoi argomenti mentre può farlo con i circostanziali chiarissimo stamattini ci arriva ma con molta lentezza quindi non sfrutta appieno lo strumento teorico che ha a disposizione quindi dovete aspettare allora queste sono le note conclusive si continua a trattare la punteggiatura e il rapporto all'intonazione e all'ortografia perché si considera una riproduzione imperfetta dell'espressione orale se non si affronta il tema entro i rapporti morfosintattici o logicosintattici continueremo ad avere gli errori che abbiamo cioè dove senti la pausa metti la virgola il modello valenziale è un vantaggio immediato che però Sabatini lo sfrutta subito in chiarezza e immediatezza le mette insieme in quella della scuola media no probabilmente perché qui l'ho visto anche nel tipo di scrittura è anacquato c'è un'approssimazione molto amichevole il tentativo per esempio di non usare anche i tecnicismi di rinviarli il più funzionale c'è questa e potrebbe metterlo anche potrebbe diciamo inserirlo vediamo altri punti delle definizioni torniamo sempre a diciamo le definizioni della grammatica tradizionale e poi e a riflettere sulla loro utilità vediamo le definizioni di nomi queste saranno per voi molto molto familiari perché i nomi sono le parole che servono a disegnare le cose tutte quelle cose che esistono nella realtà e quelle che possiamo pensare o immaginare le persone gli animali gli oggetti i luoghi le azioni i fatti le idee e i sentimenti Zordane è identico il nome è quella parte variabile del discorso questa però è una notazione di tipo morfologico che non c'è ad esempio in Sensini che serve ad indicare persone animali cose idee i concetti stati d'animazione fatti in una parola tutto ciò che esiste nella realtà o che possiamo immaginare Sabatini il nome è una parola con la quale riusciamo a indicare e individuare tutte le cose anche qui c'è questo linguaggio tutte le cose fra virgolette non è che esistono che possiamo immaginare oggetti esseri viventi luoghi idee che concepiamo con la mente fenomeni che percepiamo con i sensi sentimenti che proviamo supponiamo questa è la definizione tradizionale intanto un'osservazione queste definizioni si trovano nella sezione morfologia e voi dovete dirmi che cosa hanno di morfologico nulla cioè se io non so cos'è un nome di sicuro questa definizione non mi aiuta a identificarlo all'interno di una frase eppure si apre la parte sul nome con questo che cos'è che identifica un nome che può costituire la prima descrizione morfologica del nome il fatto che si può ha un singolare e un plurale d'accordo può essere o maschile o femminile tranne rarissimi casi gatto gatta gatto gatti poi queste sono eccezioni curiosamente Sensini ecco tutto questo mi fa riflettere perché la parte sul nome di Sensini inizia con l'esempio dei gatti che è l'eccezione gatta gatte gatto gatti cioè se la definizione morfologica è quella che mi dà la classe dentro cui io posso definire un nome senza sbagliare senza soprattutto dover fare l'elenco di tutto ciò che esiste questo è il punto perché tutto ciò che non è nell'elenco che vorrebbe essere esaustivo non è un nome quindi i ragazzi dicono ma questo è un nome magari si pongono perché non è né un oggetto né un luogo pensiamo semplicemente un nome come matematica la matematica è un luogo è un cane è un gatto è un oggetto è un'idea che cos'è no? allora tutto ciò che non si trova dentro questi elenchi potrebbe non essere un nome per esempio perché è sbagliato il punto di vista è una cosa tutte le cose immaginarie che io posso pensare quindi anche un'astronave no? perché a questo si pede una cosa che posso immaginare che non c'è l'unicorno sì siamo nel mondo del fantasy anche lì esistono i nomi però non è questa cioè forse il modo più diciamo immediato è quello morfologico è dare una definizione morfologica dopodiché produrre tanti esempi dentro i quali ci possono essere anche delle eccezioni come gatto-gatti ma non partire da gatto-gatti perché la confusione con gli aggettivi è immediata cioè quella è un'eccezione è un caso che riguarda la diciamo il collegamento del nome al sesso dell'animale e sono casi molto limitati quindi quella è l'eccezione ma non è il punto di partenza quindi anche qui andiamo al verbo nel verbo è anche peggio nel verbo ci troviamo di fronte si parte da una definizione anche qui la definizione di natura morfologica una radice e una desinenza poi potete andare ad analizzare gli elementi per far vedere come si compone un tempo come si compone un modo quello che definisce il verbo vediamo le definizioni sensini il verbo è la parte variabile del discorso quindi come il nome che fornisce collocandole nel tempo informazioni sul soggetto della frase cioè sulle azioni compiute o subite dal soggetto gli eventi che lo riguardano lo stato in cui si trova o il suo modo di essere anche qui supponiamo questa definizione potrebbe benissimo intanto anticipa concetti come quello di soggetto che si fa poi 200 pagine dopo allora come fate cioè voi dovete anticipare il concetto di soggetto perché poi diventa fondamentale nella definizione del verbo altro particolare se io dico uso l'aggettivo vecchio un uomo vecchio provate a applicare questa definizione all'aggettivo vecchio io lo trovo perfetta è vero è variabile le colloca nel tempo quindi io dico una persona da informazioni sul soggetto è vero allora vecchio vecchio può essere un verbo è qui che non funziona no? allora che cos'è? può allora informazioni sul soggetto cioè sulle azioni compiute o subite dal soggetto attenzione può essere tante cose anche uno stato del soggetto quindi diciamo beh l'aggettivo potrebbe ecco che cosa significa questo che nel tentativo di dare un'unica definizione da cui poi il ragazzo deve partire per identificare il verbo cioè questa è un'azione non è un'azione pensate all'identificazione il verbo indica un'azione questa che è proprio la riduzione al allora il sostantivo corsa la corsa è che è? è un verbo? no non è un verbo cioè questa definizione non è utile per individuare un verbo d'accordo? quindi si può far vedere siccome il verbo è la parte più complessa dal punto di vista della flessione il verbo viene da un verbo che significa una flessione però può definire cioè anche il nome può definire d'accordo? se io dico il nome come vedremo nella definizione per esempio di soggetto che è ancora più il soggetto può essere nome cosa? fanno confusione? beh cioè se mi confermate che poi c'è confusione però effettivamente hanno ragione loro perché se io parto da questo tipo di definizione e gli chiedo poi di individuare l'azione soprattutto si fissa l'elemento dell'azione è chiaro che poi lo confondono con il sostantivo che indica l'azione lo stesso in Jordan perché anche qui parte variabile del discorso è la parola per eccellenza vedete il verbo la colloca nel tempo un'azione compiuta o subita dal soggetto qui ci sono un tentativo di dare una definizione dei ruoli semantici del soggetto quindi come agente come paziente questi sono gli elementi poi in San Battini il verbo è una parola che usiamo per descrivere azioni movimenti atteggiamenti stati d'animo ecco qui c'è tutto l'elenco e poi per collocare questi fatti nel tempo e per presentarli in modi diversi intanto si dà una definizione dove entra anche il modo così sempre virgolettato perché ho capito che tutto ciò che è virgolettato poi viene sviluppato come se si richiamasse l'attenzione su questi elementi allora anche qui diciamo noi dobbiamo partire tutte le grammatiche partono da queste definizioni e poi ci dicono il verbo queste caratteristiche flessive e viene dopo d'accordo questa informazione che è quella dopodiché non sarà difficile una volta stabilite le caratteristiche della struttura cioè quando insegniamo a riflettere a riconoscere insegniamo il processo più che l'etichettatura quando abbiamo insegnato il significato la parte semantica si può sviluppare come si vuole ma se lo scopo è il riconoscimento capire come si forma un verbo e la sua flessione allora lavoriamo in un altro modo sintesi nella definizione e classificazione si privilegiano il livello semantico e sostanzialistico sempre la definizione che cos'è che funzione svolge per favorire la riflessione sui processi sarebbe utile invece ricorrere a criteri morfologici cioè la descrizione che identifica formalmente un nome o un verbo dopodiché sul significato lavoreremo sull'estico lavoreremo sulla semantica non sono operazioni separate ma non si può anticipare una parte rispetto all'altra se lo scopo è identificare poi riprodurre quella struttura essere capaci di costruire un verbo l'imperfetto di un verbo quella definizione che abbiamo visto non mi aiuta affatto non mi dice non mi dice come faccio un imperfetto o un eccetera andiamo alla frase andiamo velocemente quanto allora nel caso della frase volevo farvi osservare che diciamo nel caso di Sabatini non abbiamo problemi perché effettivamente il discorso del verbo e delle valenze del verbo ci aiuta a definire la frase proprio sulla è molto semplificato il sistema ed un buon sistema qual è il problema il problema è la cosiddetta frase semplice quella che è detta anche minima o nucleare e il problema maggiore l'ho riscontrato in Zordan da questo punto di vista perché ci sono molte incertezze nel senso che dà una definizione di frase minima che richiede un predicato e il soggetto ci deve avere almeno il predicato e il soggetto allora sta storia della frase minima è una cosa che ha una lunga storia dal punto di vista della linguistica esattamente perché perché diciamo perché viene da una definizione di Martinet della frase la frase non contemplava la possibilità di argomenti diciamo così del verbo e tutte le grammatiche scolastiche l'hanno riportato però questa storia della frase minima qual è il problema che minimo si riferisce a un livello formale e il resto diciamo hai sempre al solito discorso degli aspetti comunicativi e informativi di una frase se io dico frase minima soggetto e complemento questa è una definizione formale ma non è certo una definizione di natura comunicativa o semantica qui può mancare qualcosa può mancare qualcosa la frase non si esaurisce in questo la grammatica valenziale ce lo dice chiaramente allora però rimane e specialmente in Zordano rimane questo ci ricorda che la forma minima di base della proposizione deve sempre avere un senso compiuto questo discorso del senso compiuto cozza con la definizione di soggetto e predicato perché soggetto e predicato possono avere un senso compiuto da soli ma anche no il gioco qual è alla fine è quello di dire nell'ultima pagina proprio dove si dà questa definizione segue appunto Zordano ricordando che non sempre soggetto e predicato cioè prima lo dice poi soggetto e predicato sono sufficienti per ottenere un significato compiuto e quindi rinvia la versione digitale per vedere come si tratta la frase minima della grammatica valenziale questo è bellissimo cioè rinuncia a Zordano a definire dal suo punto di vista secondo il suo modello la frase minima quando basterebbe fare come Sensini che aggiunge degli argomenti no e parla di completezza di significato no Zordano mantiene la definizione di frase minima tradizionale poi dice attenzione perché potrebbe non essere completa però se vuoi sapere come vai a vedere nel sito vai a vedere nel sito e vedrai che con la grammatica valenziale tutto questo si risolve ma se il modello non è stato usato fino all'inizio non si può mettere in una nota allora perché non cambiare ecco Sensini invece dice parla di completezza no allora a questo punto parla della completezza del verbo e dei suoi argomenti ok questo ve l'ho detto c'è poi il discorso del soggetto che costituisce sempre lo stesso problema soprattutto sia nel Sensini che in Zordano abbiamo persona animale o cosa e questo noi sappiamo che intanto non è corretto perché soggetto può essere non solo qualunque parte del discorso ma anche qui perché dire persone animale o cosa no non si comprende però è solo in un secondo momento che il soggetto è legato al predicato attraverso la cosa ecco anche qui si preferisce un prima anticipare una definizione che ancora una volta è di tipo è di tipo semantico e poi solo dopo si parla di ciò che invece è fondamentale e importante poi non è l'unico elemento che è l'accordo col verbo questo quando noi vogliamo identificare un soggetto facciamo riferimento a una scala di possibilità che è molto interessante perché quando definiamo il soggetto noi facciamo riferimento a più elementi della linguistica cioè non c'è un solo livello descrittivo che ci aiuta a identificare il soggetto e nel soggetto troviamo un po' tutto quel eclettismo positivo che oggi si trova in più grammatica cioè più elementi che concorrono alla definizione perché uno da solo non è sufficiente questo ci dà anche un po' l'idea della limitatezza della grammatica tradizionale cioè a volte dobbiamo dare più criteri che provengono da livelli diversi di descrizione della lingua vorrei chiudere poi vi lascerò tutte queste schede vorrei chiudere con una parte sulle varietà perché diciamo nella proposta che vi ho fatto non c'è il testo la proposta che è quella di attingere prima di tutto la morfologia più che a definizioni di carattere semantico eccetera non c'è il testo ma ovviamente si può lavorare con questo sul testo e non c'è non ci sono le varietà dell'italiano su cui si trovano sempre separate ma che secondo me invece vanno introdotte ogni volta che è necessario cioè far riflettere vuol dire anche far riflettere sull'uso immediatamente allora che cosa succede che la variazione è entrata nelle grammatiche però separata un po' da tutto il resto e soprattutto non si capisce qual è diciamo che cosa si intende per varietà non si dà proprio una definizione nonostante il numero di pagine che invece le varietà occupano Zordano volume secondo all'interno della comunicazione ci dice che lingua parlata e lingua scritta sono due forme diverse di comunicare noi andiamo a vedere la definizione che dà anche qui vorrei richiamare soprattutto l'attenzione sulla coerenza delle definizioni che cosa ci dice lingua scritta e lingua parlata sono due lingue diverse perché si usano in situazioni diverse per scopi diversi e utilizzano segni e mezzi espressivi diversi se lo confrontiamo con la definizione che Zordano stessa dà di lingua non torna questa definizione non è questa no no ma è fuori dalla definizione perché perché succede questo perché da una parte si parla della lingua e si dà la definizione o della comunicazione dei segni del linguaggio verbale non verbale tenendo facendo il riassunto diciamo di un qualche volume manuale o universitario perché veramente si arriva a livelli di approfondimento che sono incomprensibili specialmente nella parte sulle varietà geografiche non ho capito cioè si parla di italiani regionali ma in modo molto approfondito e poi siccome inizia una sezione diversa si prende un altro modello si prende di riferimento un altro manuale e cambia tutto cioè questo è il punto poi questo rappresenta una difficoltà poi che cosa succede che la lingua parlata per identificare la lingua parlata in Zordano si presenta e si identifica il parlato con il polo dell'informale l'informalità e questo poi che cosa succede dopo aver fatto questo che in tutta la parte sulla testualità sulle altre varietà deve dire il testo scritto orale quando parla delle altre varietà quelle diafasiche quelle soprattutto quelle diafasiche deve ricordare che formale e informale si applicano sia al testo scritto che a quello parlato è chiaro cioè non rappresentano invece nella caratterizzazione del parlato fa solo riferimento all'informalità guardate questo esercizio l'esercizio trasforma i seguenti messaggi parlati in messaggi scritti è già qui è già qui cioè voglio dire qui si dà per scontato veramente che ci sia stata una definizione molto molto attenta sostituendo eliminando le forme che ti sembrano tipiche della lingua parlata che cosa chiede è a Napoli che andrete in gita cioè qui questo esercizietto che viene proposto così tanto per non è stato assolutamente preparato però conta sul fatto che l'insegnante censurerà la frase scissa è vero poi secondo esempio mannaggia ho dimenticato a casa e fra già mannaggia e chi lo dice adesso al prof di musica qui il mannaggia col prof probabilmente si deve sostituire il prof qua c'è l'elemento lessicale quindi informale che cosa sostituireste questo qui è chiaro stiamo lavorando su livelli diversi soprattutto questo film l'ho già visto questa è una dislocazione quindi questo qua si vuole che sia corretta attenzione ognuno può pensarla su questo come vuole il fatto è che una frase del genere priva di contesto non si può né correggere e nemmeno dare come esempio perché le dislocazioni sono portano informazioni del punto di vista cioè hanno una struttura che va analizzata dal punto di vista informativo se sono decontestualizzate non si capisce qual è il valore informativo della dislocazione questo mi sembra abbastanza quindi costringe quello che è ancora più interessante il fatto che non fornisce poi questo manuale le informazioni necessarie per correggere questo esercizio perché ad esempio sulla dislocazione viene messo tutto insieme l'unico esempio di dislocazione che c'è è il costrutto amemmi ora come si possa da amemmi risalire a questo film l'ho già visto attenzione non è semplice non è semplice è vero? quindi le istruzioni che dà non sono sufficienti a fare a svolgere e sì ma infatti diciamo sono temi complessi che si affrontano in termini di registro in termini di come vi dicevo dal punto di vista della struttura informativa possiamo ma censurarli così senza aver detto assolutamente niente senza questo non quali argomenti si possono usare soprattutto non si danno frasi isolate in questo in questo modo passare da amemmi considerato come dislocazione appunto questo film l'ho già visto altra dislocazione guardate che è estremamente complicato cioè ci vuole un ragionamento che ragazzi cioè non possono fare ancora peggio non lo vedi che non ci passo perché anche 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 in questo caso provate a fare l'analisi beh qui c'è un pronome di troppo diciamo la stessa cosa ma se abbiamo dato come definizione di pronome ciò che sta al posto di un nome come propongono le grammatiche qui qui nessuno riconoscerà nemmeno il pronome quindi non saprà nemmeno dove si trova è vero? perché poi allora sulle varietà all'ultimo ci sono cose estremamente interessanti perché ci sono anche degli errori cioè cose su cui ormai la linguistica cerca di lavorare per esempio gli esempi dei linguaggi settoriali una parte sui linguaggi settoriali non so se avete presente questa tabella no? questa è interessante perché che differenza c'è tra lingua comune e linguaggi settoriali attenzione i linguaggi settoriali privilegiano i nomi rispetto ai verbi sta parlando di nominalizzazione che è uno dei processi più difficili da spiegare benissimo poi privilegia i nomi rispetto ai verbi usando quando sono indispensabili e qui si apre un mondo perché i verbi ma i verbi di significato generico con l'aggiunta di un nome e qui la tabella è devastante perché questo non è linguaggio tecnico no è quello che tecnicamente si chiamano tecnicismi collaterali cioè quelli proprio inutili inutili se io ho dato una definizione di tecnicismo adeguata questo non risponde assolutamente cioè dire aiutare o prestare aiuto vi immaginate può essere al limite una questione di registro perché si trova in certi tipi di testi ma non può essere l'esempio con tutta la serie che ne segue di qualcosa di necessario perché da anni i linguisti si battono per eliminare per esempio nel linguaggio burocratico questa proliferazione no quindi e hanno dato anche un nome cioè tutto ciò che è inutile tecnicismi collaterali no proprio per eliminare questo tutta questa parte allora conclusioni chiudo su una considerazione sola perché sono venute fuori varie questioni no che spero siano chiare nella loro impostazione un fatto che non abbiamo invece trattato è quello del referente delle grammatiche scolastiche e in parte questo tema è collegato all'adozione cioè al rapporto che c'è tra case editrici grammatica insegnanti che sono sempre considerati conservatori quelli che comunque non cambieranno mai quindi diamogli sempre lo stesso prodotto per chi sono scritte queste grammatiche Sensini questo è un esempio che ho preso dall'italiano di tutti che ho trovato qualche anno fa nel 2007 forse ce l'avete ecco una frase come questa il significato delle parole però non ha nulla a che fare con quello che i linguisti chiamano referente con chi sta parlando questa è una grammatica delle scuole medie con chi sta parlando all'insegnante come minimo seconda frase qui era quando si cominciava a introdurre il discorso della grammatica delle valenze taluni linguisti però considerano questi verbi non verbi transitivi ma verbi transitivi indiretti o meglio verbi transitivi a due argomenti di cui il secondo argomento il primo è il soggetto al legame indiretto allora questo per la scuola media è chiaro che qui il referente non è nemmeno il destinatario non è nemmeno l'insegnante perché l'insegnante dice cos'è questo è il linguista è il linguista addirittura abbiamo anche quindi un altro capitolo sarebbe molto interessante da analizzare come sono scritte queste grammatiche come sono scritte a chi si dirigono abbiamo visto le definizioni sono quelle tradizionali ma poi gli esempi esistono degli articoli che hanno fatto l'analisi anche del modello di lingua che le grammatiche esprimono attraverso l'esposizione questo è interessante e è una lingua abbastanza curiosa che sarebbe da analizzare la grammatica perché anche il libro di testo è il primo esempio di come si dovrebbe scrivere cioè uno si aspetta che questo che sia anche un modello di scrittura con questo poi tutto il resto l'abbiamo già detto quindi non vi ripeto quello che abbiamo già visto rapidamente però dopo se vogliamo discutere approfondire torneremo su questi aspetti ed altri vi lascio con questo e vediamo adesso con l'esercitazione invece quanto la grammatica può essere utile invece per la parte del fare per la parte compositiva lo vediamo con Francesca e grazie per l'attenzione veramente allora io direi che potremmo ricominciare con la seconda parte con il laboratorio a cura di Francesca Faleri della scuola secondaria di primo grado Mazzini di Livorno ci sono anche delle fotocopie per il laboratorio che ora vi distribuisco grazie sì va ecco va bene inizio ringraziando intanto Elena Pistolesi per la lezione che ha tenuto che è stata molto interessante io so quanto lavoro c'è dietro e ringrazio Roberta Cella per avermi dato di nuovo la possibilità di essere qui a mettervi un pochino al corrente a condividere con voi alcune riflessioni e devo dire che quando sono stata contattata per tenere questo laboratorio già alla fine dell'estate sono stata doppiamente contenta non solo per il piacere di essere qui ma anche perché l'argomento che mi veniva proposto che io ho interpretato come a cosa serve la grammatica era un argomento su cui io da sempre mi interrogo da quando ho iniziato a insegnare italiano mi sono resa conto fin da subito di fare molta grammatica nelle mie classi e fin da subito mi sono domandata se questo non fosse un fatto autoreferenziale cioè mi piace la grammatica la insegno oppure se davvero ci fosse una finalità se davvero la grammatica potesse essere come immaginavo uno strumento per il raggiungimento degli obiettivi che volevo che i miei studenti raggiungessero obiettivi che al di là di quello che poi andiamo a scrivere nelle nostre programmazioni e in tutti i moduli che dobbiamo compilare poi secondo me sono sostanzialmente quelli molto semplici di far arrivare i ragazzi alla fine della terza media in grado di capire quello che leggono e quello che ascoltano è in grado di sapere esprimere per scritto oppure realmente quello che pensano in modo che gli altri lo capiscano e quindi insomma una volta fissati questi obiettivi di base mi sono domandata serve davvero la grammatica che insegno per il raggiungimento di questi obiettivi e ho pensato di farvi degli esempi seguendo un po' idealmente il programma partendo da un esempio sul programma di prima e poi andando avanti con l'analisi logica e l'analisi del periodo partendo con quella che è più che un'indicazione una riflessione una provocazione perché noi nei nostri manuali troviamo all'inizio una parte dedicata alla fonetica alla fonologia all'ortografia e non sappiamo mai cosa farci perché è una parte molto ampia perché ci sono tanti concetti diversi messi insieme perché mai non è neanche che queste parti siano fatte molto bene proprio perché mischiano argomenti diversi e non ci aiutano a lavorare su questo argomento ora io riflettendo un pochino ho pensato che quello che ha senso insegnare agli studenti e una competenza che loro devono acquisire è quello di uscire dalla scuola media e avendo chiara la differenza fra suono e lettera che questo sembra una cosa scontata ma in realtà non lo è perché loro arrivano dalle elementari con una grande confusione ora lo dico io ho anche una bimba in prima elementare e è da settembre che tortura la mia sensibilità linguistica dicendo mamma oggi ho fatto la p mamma oggi ho fatto la t e io tutte le volte le chiedo ah e cos'è e lei mi risponde una lettera io cerco sempre di spiegarle guarda p e t sono dei suoni poi ogni suono si rappresenta con una lettera p e t sono il nome della lettera p e t sono due suoni però lei continua a dirmi ho fatto la s ho fatto la z quindi vuol dire che così viene insegnata alle elementari e va bene io non voglio dire che cioè non voglio criticare le insegnanti delle elementari perché loro hanno un compito diverso dal nostro da svolgere e generalmente lo fanno in maniera incomiabile perché riescono insomma a portare i ragazzini ad una competenza adeguata nella maggior parte dei casi però tocca poi a noi raffinare queste competenze e dargli degli strumenti in più quindi è bene secondo me cominciare facendo capire ai nostri agli studenti che arrivano da noi che suoni e lettere sono cose diverse e a sfatare i miti che vengono dati elementari cieco che non ci vede cieco della repubblica cieca si pronunciano esattamente nello stesso modo ma si scrivono in due modi diversi perché quelle sono due parole che hanno due storie diverse e quindi perché è difficile capire quando si scrive con la i e quando senza la i è difficile perché non c'è una corrispondenza con il suono i suoni sono uguali e quindi loro devono fare lo sforzo di imparare a memoria queste cose perché non c'è nessuna motivazione di suono nella differenza di scrittura e un altro esempio può essere quello dei digrammi quando io scrivo agnello la g e la n sono due lettere ma rappresentano un suono solo e su questo bisogna insistere bisogna farglielo capire non verrà più neanche la tentazione di dividere in sillabe andando a capo fra la g e la n se i ragazzi hanno capito che quello è un suono solo e un'altra cosa le vocali perché le vocali sono cinque e a e i o u la non parata di elementari però li si può far riflettere le vocali sono cinque ma dove non c'è l'accento e allora sono a e i o chiusa o sono due cose diverse mentre in posizione tonica dove c'è l'accento le vocali sono sette a e e i o u e la differenza fra e aperta e chiusa è tale che in italiano esistono delle coppie di parole che assumono significati diversi solo perché cambia quella vocale quindi la pesca e la pesca sono due cose diverse ora io parlo da insegnante toscana che insegna ragazzini principalmente toscani quindi per noi immagino che sia una situazione abbastanza comune per noi ecco questo tipo di ragionamento ovviamente più facile però dato che abbiamo questa facilità dovuto al fatto che i nostri alunni sentano la differenza fra le vocali perché non utilizzarla per dare uno strumento in più per farli capire che appunto una cosa sono i segni sono le lettere una cosa sono i suoni e sono due cose diverse riflettere sull'ascolto della lingua sull'ascolto dei suoni della propria lingua secondo me è una competenza che va data quindi faccio anche un esempio pratico io non parlo mai di dittonghi in classe non so come trattarli poi magari imparerò dedico invece molto tempo all'accento a come individuare l'accento a cosa serve l'accento e mi sono resa conto che però può essere utile fondere le due nozioni quelle di accento e quello di dittongo per esempio quando si fanno i verbi perché in italiano sono molto rappresentati dei verbi di questo tipo cioè che hanno alternanza fra forme col dittongo nella radice e forme senza dittongo nella radice per i nostri studenti toscani d'op di famiglia toscana da sempre coniugare un verbo di questo tipo è facilissimo non c'è nessun problema ma se già i ragazzino magari hai genitori non toscani oppure se a casa parla cinese o marocchino russo questi verbi rischiano di essere misteriosi non è che bisogna imparare sempre a memoria come funzionano questi verbi basta dare delle regole e allora lì si chiede secondo voi perché in alcune forme c'è il dittongo e in altri non c'è e alla prima non ci arrivano quasi mai però effettivamente mi è anche capitato quest'anno di un ragazzino che subito mi ha saputo spiegare perché tra l'altro ragazzino straniero però poi lì si può dare un indizio perché io dico mi siedo tutti siedi si siede ci sediamo vi sedete si siedono si dice provate a mettere anche l'accento e allora qui magari si attiva la corrispondenza lo capiscono anche loro dove l'accento cade sulla radice allora nella radice c'è il dittongo se l'accento cade sulla desinenza il dittongo non c'è più non si forma perché funziona così la voce nel momento in cui c'è l'accento la sillaba viene pronunciata con più forza è possibile che la vocale si modifichi e allora si fa riflettere su questa cosa poi si possono rendere le cose ancora più difficili io posso tu puoi e li puoi possiamo voi potete e si possono qui è ancora più difficile perché non tutte le volte che c'è l'accento c'è anche il dittongo come mai ora la maggior parte di noi avrà dato secoli fa l'esame o di storia della lingua italiana o di filologia italiana o di altro si ricorda che il dittongamento sia in posizione tonica l'abbiamo detto anche in sillaba libera ora senza dire questa cosa agli studenti quando però la sillaba finisce per consonante il dittongo non c'è perché si fa ascoltare perché quella vocale effettivamente lavorandoci un pochino si sente pronunciata così breve che anche se la voce ci si posa di più non c'è spazio per modificare il suono il dittongo non si crea e quindi questo può essere un esercizio d'ascolto può essere divertente può essere utile in un'ottica di inclusione perché abbiamo detto che i ragazzini stranieri o quelli che insomma hanno fatica a coniugare normalmente questi verbi possano avere un'indicazione in più ma anche i ragazzini toscani che non sbagliano mai il dittongo hanno un'indicazione in più per capire come funziona l'accento perché capiscono che dove c'è il dittongo lì c'è passato l'accento quindi hanno uno strumento in più e funziona quindi in ottica di inclusione ma anche in ottica di valorizzazione delle eccellenze non dimentichiamoci che dobbiamo muoverci all'interno di questi due punti non solo pensare a chi ha fatica bisogno di mettersi in pari ma anche a chi invece queste cose le sa già io in genere dedico un quarto d'ora venti minuti a questo argomento faccio fare un po' di esercizi di ascolto mentre tratto i verbi e la maggior parte dei ragazzini i verbi li hanno già fatti alle elementari eppure alle medie li rifanno per due mesi magari forse anche di più quelli che lo sanno già perché si devono annoiare e pensare che alle medie si fa solo ripasso di quello che si è già fatto alle elementari se oltre al ripasso per chi all'elementari non l'ha fatto o non l'ha imparato si fa anche qualcosa di più l'attività diventa poi più utile più piacevole anche per chi le cose di base già le sapeva e poi faccio delle prove le ho messe nella verifica esercizio facoltativo questo non è detto non bisogna rispondere si prende dieci anche senza questo però chi vuole qualcuno ha preso dieci e mezzo con questo metodo non glielo ho scritto però il punteggio ci sarebbe stato pensa all'indicativo presente del verbo potere a come vi si alternano vocali semplici e dittonghi perché abbiamo posso ma puoi perché può ma potete sai spiegare quando il verbo ha la vocale semplice e quando ha il dittongo ora la maggior parte degli alunni giustamente facoltativo non lo guardano neanche non lo fanno qualcuno prova a spiegare dice un dittongo ha due vocali la vocale semplice è una sola però qualcuno invece capisce scrive mi hanno scritto così perché puoi e puono l'accento nella radice e non sono seguite da consonante insomma qualcosa ha capito e l'ha saputo spiegare oppure hanno l'accento sulla radice e dopo non hanno consonanti oppure il verbo ha vocale semplice quando è seguito da consonante risulterebbe difficile pronunciare puosso ed ha il dittongo quando non è seguito da consonante quindi effettivamente qualcosa passa magari sono 3 su 40 però loro hanno capito e loro gli altri verbi cioè i verbi li sapevano già hanno imparato qualcosa di nuovo e allora perché non farlo tra l'altro questa è una competenza trasversale perché i nostri studenti non solo studiano l'isaliano studieranno anche un'altra lingua magari il francese funziona nello stesso modo dove c'è il dittongo dove c'è l'accento la vocale è in un modo insomma il gruppo vocalico è in un modo dove non c'è l'accento è in un altro funziona così per lo spagnolo funziona così anche per il rumeno quanti studenti rumeni abbiamo in classe quindi questo meccanismo una volta che è imparato che è nella loro mente funziona non solo per l'italiano ma per le altre lingue di origine latina che si troveranno a studiare o che già conoscono possono fare dei paragoni io ho un piccolo rimpianto di non essermi insegnata la risposta però ho avuto un anno una ragazzina rumena che era in Italia da sei mesi parlava malissimo l'italiano però questa storia dell'accento nella verifica di grammatica me l'aveva saputa spiegare meglio di tutti gli altri era l'unica che in quella classe aveva dato una buona risposta mi piace pensare che lei da quel momento abbia imparato con più facilità verbi italiani perché aveva potuto trovare questo meccanismo e fare questa analogia fra la sua lingua e l'italiano quindi è uno strumento che consiglio anche se come ho detto questa è una provocazione perché alla fine parlare di fonetica di fonologia è sempre difficile e allora passo al programma di seconda c'è l'analisi logica come utilizzare l'analisi logica per il primo obiettivo quello di comprensione in particolare come usare l'analisi logica per comprendere un testo difficile dove non ci capiamo niente Dante giustizia mosse il mio alto fattore fecimi la divina potestate la somma sapienza il primo amore va bene ora a noi sembra facile però i ragazzini che se lo trovano davanti per la prima volta fanno fatica ad orientarsi come lavorare su un testo così allora faccio una premessa di metodo un metodo che io uso fin dalla prima e ho preso l'abitudine a marcare in ogni frase quando lavoriamo anche alla lavagna tutte le frasi che scriviamo e quando analizziamo i testi a marcare il predicato a marcare il soggetto a marcare il complemento oggetto io in genere lavoro con la lavagna così quindi faccio sottolineare in maniera ondulata il predicato sottolineare dritto il soggetto sottolineare tratteggiato il complemento oggetto è uno strumento che si inizia ad utilizzare in prima quando si comincia a lavorare sui verbi transitivi intransitivi formativa passiva sulle prime poesie e anche sui brani di epica quelli che si leggono in versi faccio marcare il testo in questo modo e diventa uno strumento che loro apprendono diventa uno strumento di comprensione non solo nell'immediato perché poi un testo trattato in questo modo ha delle indicazioni che aiutano la comprensione anche se io riprendo il testo dopo tre mesi non mi ricordo più cosa c'è scritto però a prima vista vedo dov'è il soggetto perché il predicato magari lo trovo ma è il soggetto il complemento oggetto subito a colpo d'occhio loro hanno il testo se ci hanno già lavorato sanno ritrovarlo quindi così anche su Dante predicato fece soggetto la divina podestate ma anche la somma sapienza e il primo amore individuati e qui si può far riflettere anche sul fatto che in italiano contemporaneo tre soggetti anche se singolari chiederebbero un predicato plurale mentre nell'italiano poetico non solo quello antico è abbastanza comune il fatto di trovare un predicato singolare e complemento oggetto mi dimmi si però è un uso così comune è vero però è un uso comune della lingua poetica si trova non solo qui quindi si effettivamente qui può avere anche un altro un significato non solo grammaticale però sul piano grammaticale comunque è una struttura comunissima non solo in Dante ma poi in tutta la lingua poetica si trova molto spesso quindi questo anche a distanza poi di mesi è chiaro che la divina podestate la somma sapienza e il primo amore sono soggetti per più fiate passiamo al quinto dell'inferno per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura è scolorocci il viso anche qua sospinse predicato quella lettura è soggetto e al soggetto anche di scolorocci mentre gli occhi e il viso sono complementi oggetti non è questo fare un esercizio di analisi logica su Dante non è scomodare Dante per fare un esercizietto di analisi logica la prospettiva è diversa è utilizzare gli strumenti dell'analisi logica per rendere più chiaro e più facile da comprendere un testo è la stessa funzione della parafrasi noi facciamo fare la parafrasi nella poesia ma non perché la parafrasi è lo scopo del nostro lavoro ma perché dopo che hanno fatto la parafrasi capiscono bene quello che c'era scritto nella poesia e se lo rileggono dopo lo capiscono questo viene ancora prima della parafrasi ai miei tempi si chiamava la costruzione diretta ora non la trovo mai nei manuali questa espressione però è in realtà uno strumento veramente secondo me molto efficace e se lo trovano anche andando avanti poi all'inizio della terza Leopardi agli anni miei anche Negaro e i fati la giovinezza anche qua Negaro è il predicato e anche qui si può fare una riflessione grammaticale Negaro è passato remoto una terza persona plurale farli un pochino riflettere anche sull'analisi grammaticale ma poi quello che bisogna che ricordino è che i fati è soggetto e la giovinezza è complemento oggetto va bene e ora questo sistema tende insomma funziona in teoria e funziona anche in pratica nella maggior parte delle classi ora devo dire che con la terza che ho quest'anno una frase di questo tipo al di là del fatto che siano capaci di riconoscere un soggetto o un complemento oggetto i fatti sono in automatico diventati per quasi tutti i fatti perché già è quello e poi avevo dato all'altra fila da fare la la paraprasi di tu pria che l'erba inaridisse il verno da chiuso morbo combattuta e vinta per i via senerella allora mi sono segnata gli errori perché il verno è diventato o il verbo o il verme a seconda il morbo è diventato il morso è anche mordo e addirittura per i via è diventato parevi e quindi per i via e senerella sembravi senerella non è stato più un problema per nessuno perché poi alla fine le attività vanno anche un pochino calate nella classi perché ci sono le classi dove alcuni alunni sanno la risposta e altri no poi ci sono le classi dove alcuni alunni sanno la domanda ma altri non sanno la domanda e questa terza che adesso quando faccio le domande non sanno neanche che sto facendo delle domande quindi bisogna poi sempre calibrare le attività per gli studenti che abbiamo davanti però ecco diciamo che in genere questo tipo di strumento mi sembra che funzioni ora detto questo vi darei qualche minuto per lavorare un po' su quel foglio che dovrebbe essere stato dato a tutti questi sono degli esempi tratti da degli elaborati dei compiti scritti che ho dato nel corso dell'anno per farvi insomma pensate un attimo a come si corre cioè come si lavora su questo testo quando i nostri studenti ci consegnano il compito noi troviamo scritte queste cose cosa ci facciamo va bene quindi piccolo esercizio 5 minuti di correzione per chi non ce li ha ce ne sono un po' lì sul tavolo e anche qui passo eh vedete voi cosa ci fate ecco quando dovete dovete correggere il tema e nel tema ci sono scritte quelle cose se io lo tratte da temi riassunti cosa fate cioè dove mettete le mani sì esercizi di scrittura in qualche modo bisogna insegnare a scrivere no allora ci sono allora io sì do temi e tra l'altro faccio temi di tipo diverso siamo a descrittivo siamo a informativo siamo a argomentativo a seconda del a seconda dei tipi di testo che impariamo a leggere impariamo anche a scriverli in maniera parallela no non si non è una cosa sì quando do Grazie. Ma io credo che sia alla fine solo un problema di terminologia, quando io do un compito di scrittura lo chiamo tema, poi se abbiamo lavorato sul testo descrittivo sarà da scrivere un testo descrittivo e lo chiamiamo tema di argomento descrittivo. Quando abbiamo lavorato sul testo argomentativo lo chiamiamo tema argomentativo. Ora io mi pongo sempre il problema, so che poi delle competenze si vanno acquisite alle superiori, però io sono consapevole del fatto che un 25% dei miei alunni non va alle superiori, il 50% dei miei alunni non prende il diploma di scuola superiore e quindi qualcosa già devono impararlo da me, perché io per quelli che poi andranno alle superiori e le faranno sicuramente posso anche pensare che lo faranno, che avranno quelle competenze nella vita anche se non gliele do io. però molti alunni delle nostre classi non prenderanno una licenza superiore e quindi mi piace insegnare anche a loro a realizzare un testo che sia coerente. Se io devo far fare un tema argomentativo e lavoreremo sulla costruzione di un'argomentazione, tra l'altro ho l'abitudine anche di far fare prima solo la scaletta in una prima fase di verifica e poi far scrivere, però loro la consegna ce l'hanno implicita perché avranno lavorato un mese e mezzo su come si costruisce un testo argomentativo e sapranno che devono scegliere una tesi, sviluppare due argomentazioni, mettere una conclusione con degli accorgimenti linguistici, con un uso di connettivi adatti al tipo di testo. Allora, tendenzialmente alle medie chiedo di dare un'opinione personale, quindi di costruire un'argomentazione su... ...trattati in classe. ...trattati in classe, eh. No, ecco, io credo di avere questa abitudine, insomma, spero che i genitori dei miei alunni non mi possano contraddire, però in genere tendo a dare una verifica su una cosa che ho insegnato a fare prima, eh. Mi contraddicono i genitori, no? Quindi, insomma, spero di lavorare in questo modo, almeno così in teoria. Poi, magari nell'applicazione qualcosa sbagliamo tutti, però in genere se do una verifica, una prova di verifica è su una cosa che ho provato a insegnare. Ora, poi, invece sulla scrittura, scendiamo più nei dettagli, guardando gli esempi che avete. Grazie. Grazie. Allora, perché vi ho proposto questo tipo di esercizio? Perché è un tipo di esercizio che ci troviamo a fare continuamente quando andiamo a correggere i testi scritti che ci propongano i nostri alunni. E perché, per quanto mi riguarda la didattica della scrittura, è uno degli aspetti, secondo me, più complessi dell'insegnamento dell'italiano. Era quello che mi spaventava più di tutti. Un po' per la mole di lavoro, perché per insegnare una cosa bisogna far fare tanti esercizi, perché gli esercizi siano efficaci, vanno corretti. Per correggere esercizi di scrittura serve sempre molto tempo, molta energia. Ma al di là di questo, non avevo ben chiaro, non sapevo qual è il modo migliore, il modo più efficace per lavorare sui testi scritti dagli studenti. In quale modo gli aiutiamo a migliorare le proprie competenze di produzione scritta. Perché la prima tentazione, quella voglio fare bene, voglio fare un lavoro che serva agli studenti, è quella di riscrivere. Cioè, una frase non è chiara, non comunica, quindi qualcosa non funziona, la riscrivo per dare al mio alunno, allo studente, un modello su come poteva scrivere per essere più chiaro e per comunicare meglio. I problemi, secondo me, sono due. Intanto, tornando alla mole di lavoro, nella maggior parte dei casi, i nostri alunni poi prendono il foglio, lo guardano un attimo, guardano il voto, lo mettono lì. Noi abbiamo dedicato mezz'ora alla correzione di quell'elaborato e invece non serve a niente perché il ragazzo da solo non se lo va a leggere. Il secondo fatto, invece, è più serio. Se quella frase non è chiara, se non si capisce, nel momento in cui io la riscrivo, come faccio a sapere di avere riscritto quello che il ragazzo mi voleva dire? In genere, può darsi che scriva qualcosa di diverso senza rendermene conto. Allora, l'alunno non ha la capacità di capire questa differenza. Lui, se è volenteroso, di buona volontà, si va a rileggere la riscrittura e dice, ah, ma quello che pensavo io non andava bene perché non capisce che la correzione è fatta sulla forma ma che la forma non era chiara e quindi io ho capito male. Pensa che l'insegnante, in automatico, insomma, che l'insegnante abbia deciso che quel pensiero non andava bene e l'ha cambiato in un pensiero che andava meglio e questo è veramente molto dannoso. Quindi io dopo qualche mese di pratica di riscrittura ho capito che forse non era la soluzione giusta. E dall'altro lato c'è la tendenza opposta. Segnare con rigoroso, eh, basta, è sbagliato, non si capisce, non è chiaro, l'hai riletto. Però anche questo a cosa serve? Intanto si dice che c'è un errore ma non si aiuta a migliorare. E poi è anche offensivo perché magari quel ragazzino ci si è impegnato, ha studato, ha provato a comunicare quello che voleva, ha lavorato con impegno e poi io gli dico che non si capisce nulla. Magari ci rimane male, avrebbe anche ragione. E allora ho pensato perché non utilizzare le competenze grammaticali che stiamo mettendo su, che stiamo accumulando per dare agli studenti stessi degli strumenti per correggersi da soli. E allora, Orfeo non fu più capace di resistere. Si girò e vede la fanciulla. Questo era un riassunto, va bene? Riassunto di un mito adatta a una classe prima. Una domanda prima, ha mai trovato a far cambiare i temi e far valutare dai compagni di calvari se non capiscono i compagni o no? Però non penso che i compagni li sappiano dare poi uno strumento. Potrebbe essere effettivamente uno strumento di lavoro. Quello che sto facendo in questo periodo con le classi con quei lavori è quello di utilizzare la grammatica. Quindi stavo dicendo, Orfeo non fu più capace di resistere. Si girò e vede la fanciulla. Una nebbia avvolse la fanciulla e scomparve per sempre. Allora, anche qua, si marca il testo con quel metodo che vi ho detto prima. Io marco i loro testi, i loro temi, i loro riassunti. Avvolse il predicato. Una nebbia il soggetto. La fanciulla il complemento oggetto. Scomparve l'altro predicato. Quindi, se il predicato non è ripetuto, dovrebbe essere una nebbia. Qui invece il soggetto dovrebbe essere la fanciulla. E allora faccio una notazione di questo tipo, una notazione grammaticale. Il secondo predicato non ha il soggetto espresso. In questo modo sembra che abbia lo stesso soggetto del primo predicato, quindi la frase non è chiara. Non ho riscritto, però ho segnalato l'errore e ho spiegato perché è sbagliato. Lo capirà da solo lo studente che doveva ripetere la fanciulla. Oppure, se non capisce, magari glielo dico io, però poi dopo un po' impara a farlo da solo. Esempio simile. Il pastore Aristeo vide Euridice, le si avvicinò minacciosamente e cominciò a fuggire. Anche qua. Vide è predicato. Il pastore Aristeo è il soggetto. Euridice è il complemento oggetto. Altro predicato avvicinò, si avvicinò a seconda di come facciamo analizzare i predicati. e cominciò a fuggire. Un altro predicato ancora. Annotazione. Il terzo predicato ha un soggetto diverso dal primo e dal secondo. Se non ripeti Euridice, la frase non è chiara, sembra che sia Aristeo a fuggire. Va bene? Anche qua, senza aver riscritto, senza aver offeso lo studente, gli si è dato uno strumento per migliorare. Ora, esempio discusso, l'abbiamo parlato a lungo con... Ora vediamo, ora vediamo. No, no, io mi sto riferendo alla... Ah, ok. E' vero, ripetere Euridice perché è rile. Sì, loro... Ecco, io... Io su questo non sono... Cioè, non sono tanto d'accordo sul fatto di evitare la ripetizione. Loro arrivano anche dalla scuola elementare terrorizzati dalla ripetizione delle parole. Però io credo che l'obiettivo della scuola media sia quello di raggiungere la chiarezza. Ed un testo dove la stessa cosa viene indicata sempre con la stessa parola è comunque un testo molto chiaro. Magari non sarà molto bello, però è chiaro. È quella che poi linguistica testuale si chiama coerenza, si chiama coesione. Perché se ogni volta che io parlo di una cosa, la chiamo sempre con lo stesso nome, il mio testo è molto chiaro. Per cui io so che poi voi alle superiori dovete andare avanti. Però alle superiori andate avanti. Noi arriviamo a questo obiettivo di chiarezza, che secondo me per la scuola media magari è da aggiungere per tutti questo obiettivo. Perché secondo me è meglio che ve li mandiamo alle superiori, che scrivono, ripetono le parole, fanno frasi brevi. Però chiare piuttosto che con dei periodi vulcanici dove non si capisce niente. Poi è bello anche il confronto fra ordini diversi di scuola per capire anche quali sono le esigenze degli insegnanti dell'ordine successivo. Però ecco, sinceramente io alla scuola media mi sono posta questo obiettivo, la chiarezza. Lavorando appunto in questo modo. Ora, questo è un tipico esempio di dislocazione di forma marcata. Ne avevamo parlato prima con Elena Pistolesi. Ne abbiamo parlato a lungo anche poco fa al VAR. Perché? Perché presentare questa forma come un errore? Cioè, questo non è un errore. Io non lo presento come un errore. Però questa frase era, e qui è tolta dal contesto. Però io l'avevo trovata in un tema di stampo informativo in cui gli alunni potevano scegliere se fare una lettera, una pagina di diario o un testo informativo o un terza persona in linguaggio formale. Questa era la scelta fatta. Tutto coerente e nel mezzo ci si trovava questa frase. Quindi io non è che ho detto è sbagliato. Però ho segnalato, anche qua, stava seguendo il predicato. Nessuno al soggetto. Il film, complemento oggetto, ma anche lo complemento oggetto. Quindi l'annotazione. Hai scritto due volte il complemento oggetto sotto forma di sostantivo e sotto forma di pronome e il soggetto è spostato dopo il verbo. Una frase di questo tipo non è adatta al contesto. Perché secondo me non si richiedeva di una connotazione. Ora ho detto secondo me. Perché vengo dal confronto con Elena che dice magari c'era bisogno di questa frase. Ora, secondo me nel contesto non c'era bisogno. Però dato che il contesto non ve l'ho portato, e quindi, insomma, fidatevi. Sì? In realtà se si corregge l'azienda bisogna fare una ricorda a parte della letteratura italiana. No. E' correttissima in tanti strumenti. E' un'efficacia, sono fratti del parlato. Perché a volte la faccola è nella mimica dell'espressione. Ma capire, se è dal faccola, per il conto che si sta parlando. Io farei, io faccio un altro modo di fronte a questo errore. Cioè farei presente, ecco, tu adesso la frase la dici parlando. E ti rendi conto che lo scritto ha delle regole più rigide rispetto al parlato. Perché non lo considererei nemmeno errore la prima. Hai scritto come se parlavi uno e due. Sulla tre che possa essere sbagliato, francamente adesso devo buttare a mare metà della via. No, allora non credo di aver detto mai che questa frase è sbagliata. No, no, perché dico, questa non lo correggerei nemmeno. No, ma con rispetto e per carità no. Poi insomma su questo effettivamente possiamo discutere a lungo. Però ho solo segnalato in questo modo che questa frase era fatta in maniera diversa da tutte le altre frasi del testo. Perché vorrei che i ragazzi acquistassero consapevolezza del fatto che le strutture possono essere diverse fra loro e che una struttura di un certo tipo corrisponde a un certo tipo di comunicazione. Quindi io posso usare una struttura fatta così, però ne devo essere consapevole. E allora il fatto di indicare, di segnalare che questa è diversa dalle altre non è né una penalizzazione né un dire che è sbagliata, perché non credo di averlo detto, è un far riflettere su come questa frase sia diversa dalle altre che erano state usate vicine. Andrei avanti, era lasciando la frase semplice e andando avanti invece sul periodo, perché qui diventa più complicato. Qui siamo in terza media, in cui gli strumenti sono diventati un pochino più raffinati, perché a questo punto della terza media si sta lavorando sull'analisi del periodo, si sanno individuare i vari predicati all'interno di un periodo, individuare le varie proposizioni. E quindi io domando qual è la difficoltà di questa frase, perché non si capisce. Secondo me non si capisce, perché ci sono uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto predicati diversi. Allora io lo dico ai ragazzi, se io facessi fare a voi un esercizio di analisi del periodo, dandovi un periodo con otto predicati, cosa pensereste mai di me? Quali complimenti immaginereste fra voi di dedicare alla professoressa? Allora perché la professoressa deve leggere un periodo dove ci sono otto predicati? Allora con gli strumenti di grammatica, di analisi logica e del periodo che hanno, loro possono correggere da soli le loro frasi. Nel momento in cui io vado a rileggere il mio testo e vedo che in un periodo ci sono otto predicati, lo capisco da solo che questo periodo non va bene. Tra l'altro io poi provo a fare, lo faccio nei loro elaborati, quando ci sono dei periodi particolarmente complessi, faccio lo schemino, quello che facciamo alla lavagna per grammatica. Questa è la frase, per quale motivo mi dovete far leggere una frase di questo tipo? Una sequenza di sette subordinate e una c'è anche la coordinata in fondo. Allora come si lavora su questo testo? Secondo me, semplicemente, basta che loro rispettino la consegna di non mettere mai più di tre o quattro predicati per periodo. Qui basta dividere. Dentro alle feste si trovavano degli spettacoli, delle bancarelle, soprattutto delle specie di tunnel che avevano il nome del cimitero, punto. Tolgo il dove perché se ho messo il punto il connettivo non mi serve più, di nessun genere. Dentro si trovavano tanti mostri, ma anche tanti bambini che facevano uno spettacolo, punto. Adesso chiedo di ripetere il soggetto perché se no non è tanto chiaro. Lo spettacolo consisteva nel far passare le persone in una specie di tunnel dove i mostri ti seguivano e ti facevano paura. Basta, non ho lavorato tanto sul testo, ho fatto accanto lo schema di analisi del periodo e poi ho spezzato quello che chiedo continuamente di fare a loro. Altro esempio. Questa attività didattica mi è piaciuta molto. Quel periodo continua a non voler dire nulla. Cioè non trasmette l'informazione, la trasmette in maniera molto parziale. Lì c'è da fare un lavoro non solo sulla sintaccia, insomma, c'è da fare un lavoro sull'essere, sui complimenti. È un testo che non è un testo. Allora, bisogna vedere l'obiettivo che è in questo momento. Cioè, io non penso che lei quando ha fatto questa cosa abbia finito di correggere. Allora, sul fatto che questo non sia un testo che non comunica, non sono d'accordo. Perché comunque comunica. Rispetto al punto di partenza, questo è certamente più chiaro. Io so benissimo che non è perfetto e che ci sono ancora molti errori. Però intanto è un punto di partenza. Se i miei studenti diventano intanto capaci di scrivere da soli un testo di questo tipo, allora io poi posso andare avanti e passare ad un altro livello di correzione. Ma non si può fare tutto insieme. Perché noi comunque alla scuola media abbiamo bisogno anche di mettere le basi, di andare per livelli. Quindi un ragazzino che già mi sa scrivere una frase con due troppi predicati, allora posso lavorare sul lessico, posso lavorare sui pronomi, posso lavorare sulla ricchezza lessicale. Se uno ancora non sa neanche scrivere una frase così, procedo per passi. Intanto faccio in questo modo. Scusate. Allora qui uso la mia autorità, uso la mia autorità per... Sì sì, io capisco perfettamente il suo punto di vista. Dunque, allora, intendiamoci, ingolfare un testo di correzioni non serve a nessuno. È chiaro che qui ci sono tanti problemi. L'uso di dentro per l'astratto invece che per il concreto, questo lo vediamo tutti. No, ne lo vediamo tutti, non c'è bisogno di rimarcarlo. Il problema è che invece chi l'ha scritto non lo vede. E dobbiamo aiutarlo a correggere, gerarchizzando la gravità delle sue imprecisioni. La gerarchia quindi la stabiliamo noi con le correzioni che facciamo. Non è possibile correggere tutto contemporaneamente perché non ci sarà ragazzino delle medie, delle superiori o dell'università, che non sono neanche più tanto ragazzini, che non sarà in grado di recepire tutto contemporaneamente. Quindi dobbiamo gerarchizzarglielo. Io sono profondamente convinta che per gerarchizzare, diciamo nella gerarchia degli interventi, quello della macrosintassi sia il primo gradino da risolvere. Il primo gradino da risolvere perché... Lei come lo correggerebbe allora? Sì, io già sapevo cosa voleva dire. Sì, d'accordo. Allora, intanto qua stiamo ragionando su estratti, naturalmente da un testo più ampio, quindi... Dopodiché il ragazzino, se conosco i miei ragazzini più grandi, mi ripeterebbe la stessa cosa con le stesse parole. Perché per lui, visto che lui l'ha scritto, per lui è chiaro... Ma è un pezzo di un tema. Non è che aveva scritto solo questo, aveva scritto un po' di più. E quindi si capiva cosa voleva dire. Poi, forse anche io nel rispondere mi sono dimenticata di ricordare qual era poi un pochino l'obiettivo della comunicazione. Cioè, come usare gli strumenti della grammatica per correggere i testi. Quindi poi si possono fare anche altre correzioni. Però io ora, spero che sia chiaro, volevo puntare l'attenzione su come utilizzare gli strumenti della grammatica per fare delle correzioni e per migliorare nella pratica della didattica della scrittura. Che poi non è l'unica cosa che si fa, però era quello di cui volevo parlare ora. Quindi, insomma, se la comunicazione risulta incompleta, perché comunque è su un argomento solo, non può essere su tutto. E comunque credo che... Questo, insomma, poi sarà anche dovuto al fatto che magari lavoriamo con persone di età diverse e anche di ambienti diversi, perché non tutte le scuole medie sono uguali, non tutte le classi sono uguali. Però se io, insomma, ad alcuni ragazzini, cioè se alcuni ragazzini arrivano intanto da soli a saper fare questa correzione, per me è un grande obiettivo. Perché noi alle medie parliamo molto di didattica personalizzata. Dobbiamo valutare non il raggiungimento di un obiettivo astratto, ma il raggiungimento di un obiettivo per quel ragazzino che parte da un preciso punto di partenza. Per me, che ho in mente la faccia di chi ha scritto questa frase, magari è anche più facile dire, vabbè, se magari riesco a farli fare una frase con tre predicati soli, ho già ottenuto un grande successo. Voi magari questo aspetto ovviamente non ce l'avete. Però ecco, nel momento in cui presento l'attività, sto puntando l'attenzione su come la grammatica può essere uno strumento per correggere i testi e per migliorare nella didattica della scrittura. Poi ci sono anche altri aspetti che magari verranno trattati in un'altra occasione. Quindi andando avanti, ecco, anche qua abbiamo visto, no, non l'ho ancora letta, scusate, questa attività didattica mi è piaciuta molto perché anche grazie ad una lettera possiamo conoscere persone nuove che abitano in altri paesi, raccontandosi molte cose, e anche sapendo che non le potrei conoscere dal vivo, comunque sia una bella cosa. Ora, è ovvio che stiamo parlando di un'attività didattica che è stata spiegata prima, quindi questa, sì, se poi volete vi racconto, era uno scambio di lettere fra alunni di una mia seconda e alunni di una seconda di una scuola dell'Isola d'Elba, e quindi, e avevano, insomma, si scambiavano le lettere, era più divertente per loro scrivere. Questa ragazzina all'inizio della terza ha detto che la cosa più bella che aveva fatto a scuola era quella lì, quindi per dare un contesto se serve. Anche qui, perché questa frase non funziona? Ci sono sempre i soliti, è piaciuta, possiamo conoscere, abitano raccontandosi, sapendo, potrei conoscere, sia una bella cosa, i soliti otto predicati. Tra l'altro io ho avuto veramente molta difficoltà a fare uno schema di analisi del periodo, perché viene fuori una cosa di questo tipo, del tutto in con... ma non sono sicura di averla fatta bene, perché veramente no, i legami logici non erano così chiari. E anche qua si può applicare lo stesso metodo, separare, cioè non mettere più di tre o quattro predicati per frase. Questa attività didattica mi è piaciuta molto. Anche grazie ad una lettera possiamo conoscere persone nuove che abitano in altri paesi raccontandosi molte cose. Qui si toglie, si mette il punto, si toglie la E, anche sapendo che non le potrei conoscere dal vivo comunque sia una bella cosa. E io so anche in questo caso che non è perfetto, però è sempre più chiaro di quello che c'era prima. E quindi secondo me un primo piccolo obiettivo sarebbe stato raggiunto se loro fossero capaci di fare da soli questo lavoro. E insomma, devo dire che lavorando per sei mesi in questo modo arrivano alla fine della terza media che magari hanno imparato a scrivere dei periodi brevi. Brevi e più difficili da sbagliare. Quindi mi sembra un metodo che ha senza applicare. Sì? Ho una domanda sulla tipologia di errori che la dico ai predicati. Cioè, non so, nella mia esperienza, questa notte che mi preoccupa per quello che riguarda la capacità di gestire lo spazio e tempo, di gestire visione, rappresentazione e trasmissione di quello che so, è il fatto che loro cambino il tempo del bar. iniziano con il terzo presente, poi sono un buon imperfetto, poi sono il passato a me moto, poi tornerò al presente, poi tornerò ai teori frequenti anche nei lavori dei tuoi ragazzi. In questo aspetto o no? È frequente, però devo dire non così frequente come il problema di accumulo e di giustapposizione delle proposizioni. Quindi, effettivamente, mi sembra che sia una cosa un pochino meno grave del fatto che invece i loro periodi sono ingestibili. nel momento in cui imparano a separare e a gestire meglio la dimensione del periodo in automatico migliorano anche nell'utilizzo dei tempi verbali. La seconda domanda è l'allungamento di questi mega periodi e la mangiata gestione della stazione temporale. Che secondo lei sono due aspetti legati alla nostra presentazione a noi? Per questo mi interessa. Lo so, lo so. E poi, molto spesso manca la programmazione del testo e quindi probabilmente sì, sono due aspetti dovuti entrambi al fatto che i testi non vengono tanto programmati. Questo è un pochino uno strumento di programmazione. Io intanto butto giù quello che ho in mente, poi utilizzo gli strumenti sintattici che ho per dare una forma migliore, una forma più chiara a quel flusso di coscienza, a quei pensieri che ho scritto sul foglio. Poi gli errori sono di tanti tipi. Ora, io mi sono ho cercato di fare attenzione soprattutto a questo tipo di problemati, a questo tipo di problemi. Ora, avrei pensato anche un'altra piccola parte, non so se c'è tempo di andare avanti, perché questa prima parte dell'intervento si intitolava nella mia mente a cosa serve la grammatica. Poi c'è un'altra a cosa non serve la grammatica. No, va bene, è nata a giugno la riflessione su questo argomento. Non serve a fare bene l'esame in Valsi. Ora, non dobbiamo considerare che questo sia il nostro obiettivo, però è una prova con cui i nostri studenti poi si devono confrontare. E allora, ho avuto un po' questo moto di delusione perché l'anno scorso, che per la prima volta avevo due classi che avevo seguito fin dalla prima, che avevano l'esame di licenza media, erano delle classi, secondo me, al di sopra della media per capacità, per vivacità degli studenti che le componevano, o comunque al di sopra della media delle classi che avevo avuto fino a quel momento, secondo me avrebbero dovuto fare un grande invalsi di italiano e invece hanno fatto un invalsi nella media. E allora mi sono domandata perché non hanno fatto meglio, secondo me meritavano di fare di meglio. Intanto, la prima riflessione è che probabilmente l'invalsi è una prova di competenza più che di conoscenza e questo me lo dice il fatto che i ragazzini pluriripetenti che arrivano alle sole dei 16 anni a fare l'esame di terza media senza aver mai aperto libro si mettono al banco e fanno molto bene, fanno un invalsi più che dignitoso. Mentre le ragazzine studiose, diligenti, coccolate, accudite, seguite, che vivono nella camera con gli unicorni arrivano all'invalsi e, poverine, prendono 5 e poi escano dalla scuola media con un voto più basso di quello che noi c'è e ci immaginavamo che meritassero. Per quale motivo? Ho provato un pochino a riflettere su cosa sono esercizi di conoscenza e esercizi di competenza partendo dalle grammatiche questi in particolari sono tratti dalla Zordane e ho preso il caso del periodo ipotetico. Allora, questo è di conoscenza, studio la regola, lo faccio, indica con una crocetta se i seguenti periodi ipotetici sono della realtà, della possibilità o delle realtà. Io l'ho scritto tutto per farvi riflettere sulle frasi che parlano di un mondo che io alle mie figlie non voglio far conoscere. No, è davvero, cioè se avessi 18 anni guiderei l'automobile, se desideri quell'anello te lo regalerò a Natale, se mi chiedessi un prestito glielo farei volentieri, se fossi milionario comprerei una Ferrari, se la vedi salutamela. Ora, un insegnante che è in classe deve leggere questa frase e poi si trova sempre in difficoltà perché a meno a Livorno l'accumulo di pronomi personali così sono sempre imbarazzanti e io non posso credere che chi scrive gli esercizi non ci pensi, però va bene, lasciamo perdere. Comunque, al di là degli esempi, questo è un esercizio di conoscenza, è una prima fase, studio la regola e lo fa. Così è questo, scrivi sul quaderno due periodi potetici della realtà, due della possibilità, due delle realtà. Ho fatto l'esercizio, ora applico la regola. Poi ci sono gli esercizi che io non do perché non mi riesce, complese ai seguenti periodi potetici coniugando opportunamente i verbi in parentesi. Se tu fossi qui sarei molto felice, ma anche se tu fossi stato qui sarei molto felice. Per quale motivo? Perché no? Sarei felice ora se c'eri prima, mi è successa una cosa brutta, se non c'eri, se tu ci fossi stato sarei felice, ma non lo sono. Lo stesso l'altro, se giocassero bene avrebbero vinto, se avessero giocato, eh ma se in generale giocassero bene avrebbero vinto anche questa volta. Quindi veramente io non riesco a dire che la maggior parte delle cose che scrivono secondo me va bene, dipende dal contesto. Questi sono esercizi che senza contesto non si possono fare, in genere non li do. Poi, esercizi che io ho individuato come esercizi di competenza. Questo non è della grammatica, è uno dei libri per esercitarsi sui testi invalsi. Il problema poi assume una particolare importanza anche per il nostro paese. Gli stranieri oggi cercano zone naturalisticamente intatte, parchi nazionali, riserve naturali e solo organizzando e attrezzando i nostri parchi potremmo cercare di ricondurre verso l'Italia con i flussi turistici che già oggi cercano territori meno degradati. L'esercizio è quali delle seguenti frasi ha lo stesso valore di organizzando e attrezzando i nostri parchi? Siamo di nuovo al periodo ipotetico trasferire e trasformare una forma implicita in una esplicita e io devo dire che per risolverlo ho pensato questo è un periodo ipotetico della realtà ci vuole il futuro e l'ho fatto in questo modo perché la maggior parte degli studenti ci ha messo a si organizzassimo però ha sbagliato perché dopo c'è il futuro quindi questo è effettivamente un esercizio di competenza se io riesco a trovare una corrispondenza fra forme implicite e forme esplicite comunque capisco meglio cosa voleva dire quel periodo quindi può avere un senso. gli esercizi di competenza che troviamo nell'invalzi però non sono neanche semplicemente di competenza linguistica sono più di una competenza che definirei pragmatica per esempio nelle coppie di parole che seguono la seconda parola comincia sempre per B questo è l'invalzi di giugno la C7 di grammatica indica quelle in cui B è un profisso che significa doppio poi dimensionale bidimensionale stecca bistecca colore bicolore lancio bilancio sono ne ho bisogno locale bilocale anca bianca ora il ragazzino plurilipetente che ha 16 anni va a fare questo test si mette lì mette due crocette lo fa benissimo senza pensarci perché è un esercizio facile per me è un esercizio incomprensibile perché io quel di matematica che so mi vanto di essere un insegnante di lettere che sa benissimo la matematica ma il doppio di due è quattro non è ventidue il doppio di un colore vabbè saranno due colori il doppio di un locale non sono due locali per me è un locale più grande è un locale doppio nel linguaggio delle agenzie immobiliari è un locale con due finestre che se vuoi poi lo puoi dividere però è un locale solo non sono due quindi già a me questo mette in difficoltà e poi lancio e bilancio ora bilancio rifletto è un dei verbale viene da bilanciare bilanciare viene da bilancia io bilancia sono andata a vedere sul De Mauro ho fatto copia e incolla etimo bilanciam variante del latino tardo bilanx bilanciare dei piatti composto di B e l'anx e B l'ho cercato due volte due volte doppio composto di due e allora lancio e bilancio B vuol dire doppio oppure no perché io mi sarei posta al problema e poi con un senso pragmatico avrei comunque detto non credo che l'invalzi volesse chiedermi questo però la ragazzina seguita curata coccolata che studia sempre tutte le regole alla perfezione magari qui la tentazione di mettere che bilancia che bilancia viene da che c'ha due ce l'ha perché la bilancia ha due piatti ci arriva anche da sola da dove viene e se la ragazzina mette la crocetta su bilancia in automatico ha sbagliato tutto l'esercizio e quindi un pacco di punti in meno lo stesso per questo la C6 quando l'ha letta mi si è aperto il cuore perché io volessicografa di formazione ai miei studenti insegno sempre ho fatto anche esempi l'anno scorso come funziona la voce di vocabolario quindi ah questa la sanno fare no leggi la voce che segue tratta da un noto dizionario a parte che a parte che io trovo eritante il fatto di dire che è un noto dizionario non mettere qual è tra l'altro non è il De Mauro non è lo Zingarelli non è il Tomaseo Bellini non è il Sabati Nicoletti quindi non so qual è sarà noto ma non a me però a parte questo che non li riguarda non è neanche una definizione fatta particolarmente bene perché mischia un sacco di informazioni ma i miei studenti secondo me dovevano fare bene perché l'hanno sbagliato quasi tutti perché poi la consegna è questa utilizzando le informazioni che puoi ricavare dalla voce del dizionario oltre che le tue personali conoscenze grammaticali indica se le seguenti affermazioni sono vere o false l'avete letto voi queste aspetta è un nome maschile che al plurale esce regolarmente in I va bene qui non c'era bisogno poi di leggere tanto la voce però a me veramente ha colpito la seconda essendo un nome può essere seguito da un articolo io ammetto che nell'immediato avrei messo vero leggendo al posto che seguito preceduto nella mia mente però dobbiamo anche immaginarsi un ragazzino di 14 anni che qui ha già la domanda C6 il primo giorno di esame è in preda al panico e qui deve essere concentrato per realizzare che c'è scritto seguito e non preceduto ma poi che senso ha questa frase perché io ho provato a parafrasare la definizione del dizionario lo struzzo un uccello appartenente all'ordine delle istruzioni formi è incapace di volare perché non ce lo posso mettere dietro perché c'è essendo un nome cioè non è che il fatto che sia un nome mi permette che ci sia l'articolo dietro però insomma io vi dico che questa frase qui si doveva mettere che era falso tanti miei alunni hanno messo che era vero io non so se perché hanno letto preceduto invece che seguito o perché si sono immaginati che lo struzzo un uccello l'articolo ce lo posso mettere e quindi hanno detto no va bene io metto che è vero e anche qui mettono che questa è vera e perdono il punteggio su tutta la domanda allora come facciamo noi a rendere i nostri studenti competenti non solo sul piano linguistico ma sul piano pragmatico perché tutte queste obiezioni che ha fatto la mia testa di ex di persona che ha studiato linguistica che fa attenzione a tutto quello che c'è scritto che conosce le etimologie io poi con buon senso arrivo a dire che sono obiezioni che non hanno senso per questo tipo di prova però non è detto cioè i miei studenti l'ho visto da come hanno fatto i compiti non avevano ancora maturato questo tipo di competenza e di consapevolezza quindi io la grammatica che insegno io non arriva a dare questo tipo di competenza pragmatica nell'affrontare una prova di analisi linguistica sulle competenze linguistiche quindi concludo dandovi il mio indirizzo di posta elettronica se avete suggerimenti questo è l'indirizzo a cui scriverli e se ci sono delle domande anche adesso ci sono domande o riflessioni si prego ripetere una parola quello l'ho apprezzo particolarmente perché nulla di peggio della ripetizione mascherata per cui non si ripete il gatto e si fa scrivere questo animale quindi ho apprezzato particolarmente sulla quinta di quelle frasi si può discutere che è un po' libera e mi ricorda certi passaggi a volte persino di tachico nel modo di lì si potrebbe discutere però però proprio didatticamente è utile abituare gli studenti all'ordine quindi capisco l'esigenza didattica ecco a seconda dell'ordine di scuola la quinta la correggerei all'elementare ma tutti i miei ragazzi senti 17 anni la lascerei anche a stare grazie nessun'altra vedo che state andando via allora vi ringrazio vi ricordo che il prossimo incontro sarà il 14 febbraio non qui ma come al solito nella sala azzurra al primo piano del palazzo della scuola normale grazie e ringrazio le nostre relatrici di oggi grazie arrivederci esame si è studiato troppo lo sbaglio grazie a tutti